buonasera avvocati e avvocatesse stasera vi vedevo lì mi immaginavo voi lì dietro la tassiera ma quando cominciamo quando comincio perché non vedete la verità non vedete l'ora soprattutto franciccio non vedeva dell'ora che arrivasse questo giorno e prima o poi doveva arrivare ed è arrivato oggi completeremo la trilogia di felix bright ace attorney con il terzo capitolo che a quanto pare da quello che mi dite è il più bello e dico a quanto pare perché non l'ho mai giocato e quindi sono in blind run ufficiale blind run ufficiale penso che sia una cosa molto rara trovare qualcuno che che sia in blind run di questi giochi così tremendamente famosi e che hanno giocato tutti anche mia nonna l'ha giocato e quindi questo è un valore aggiunto che spero di darvi buonasera franciccio buonasera trish buonasera pietro buonasera subì buonasera raccoon bello ci siete tutti manca solo dino speriamo che ce la faccia ti frega abbastanza relativamente di cosa a del del fatto che finalmente è poi proprio oggi che mi devo tirare sul morale o mi dispiace franciccio spero che non sia successo nulla di grave mi dispiace spero da allora di tirartelo su davvero il morale a te piace tantissimo il tre sì me lo state dicendo tutti me l'ha detto tu me l'ha detto franciccio mi ha detto anche subì se non erro a di phoenix bright ok beh però qualcuno qualcuno lo aspettava con molta molta trepidazione ecco allora ora non so io se c'è un specie di riassuntino all'inizio del gioco franciccio non so confermami altrimenti io pensavo di leggere una piccola un piccolo riassuntino da wikipedia per insomma rinfrescarci un po la memoria e così poi si parte poi un'altra cosa devo fare stream riders oppure preferite durante le visual novel che non interrompiamo ogni mezz'ora per per la per la partita ditemi voi anch'io in questi giorni o il morale bassissimo mannaggia mi dispiace ragazzi ma ora c'è phoenix bright nulla a più importante perfetto dai concentriamoci su questa serata tagliate tutti i ponti con la realtà e immergiamoci in questa cosa così non pensate a nulla non c'è ok il morale non cominciamo bambini allora il capitolo precedente ovvero justice for all se vi ricordate l'abbiamo giocato tempo fa ora con i me con i mezzi a mia disposizione vi faccio sapere quando l'abbiamo giocato nel frattempo questa informazione importantissima che senza di questa nella serata non si può andare avanti l'abbiamo giocato mo ve lo dico mo ve lo allora l'abbiamo iniziato justice for all il 24 gennaio 2021 ah ma adesso insomma adesso più di un anno fa buonasera sono giorgio questa sera parleremo di quando è il mulare a terra e il canino risulta essere incisivo perfetto penso che abbiano tutte e due fatto una bella risata in questo momento quindi le hai dire di su di morale sicuramente comunque abbiamo iniziato il 24 gennaio del 2021 e l'abbiamo finito ben 14 puntate dopo ovvero il 30 marzo quindi si può dire che è un anno fa proprio quasi quasi preciso dai più o meno un anno fa quindi ci stanno dopo un anno ciao giorgio buonasera ciao pietro ma ti avevo già salutato no sì sì ti ho già salutato ti risaluto stasera due volte allora qui però il wikipedia fa dei semplicissimi brevissimi riassuntini degli episodi però per quanto solo per quanto riguarda il caso specifico poi devo aggiungere un pezzettino da wikipedia inglese per per la parte finale comunque il primo il primo episodio se vi ricordate era quello in cui viene aggredito phoenix wright e perde la memoria poi grazie all'aiuto di maggie che era il poliziotto poliziotto sì il cliente che era la sua cliente accusata ad omicidio dalla gente di pulizia dustin prince riesce a vincere la sua prima causa la presenza di maia permetterà inoltre a phoenix di superare la sua amnesia bene ciao pietrinici così è bello fresco nelle menti di tutti specialmente in quella dello streamer che notoriamente ha una memoria manco di ferrari certo non è esatto esatto non ricordo neanche una un fotogramma di phoenix wright ma proprio niente no fu una cosa me la ricordo verso la fine cioè io in realtà ricordo le cose importanti ecco nel secondo episodio maia viene accusata dell'omicidio del dottor tarni gray per aiutare phoenix a rifiutare il caso gli offre il suo magatama che è uno strumento bambini con un coso è un coso fatto di pietre va bene grazie a questo coso fatto di pietre praticamente riesce a legare riesce a scoprire se le persone interrogate mentono su particolari dettagli e quindi riesce a smascherarle spezzando i loro lucchetti psichici psichicici ve li ricordate bambini i lucchetti psichici io sì proprio perfettamente non fare capricci guai fai perché sennò guarda arrivo arrivo io ma poi il circo però me lo ricordo giuro mi è rimasto impresso nel terzo caso phoenix si troverà a difendere un eccentrico artista maximinieron galactica me lo ricordo giuro non è per darmi delle ali anche perché tanto ormai non ci credete imputato della morte di russell barry direttore del circo omonimo durante le indagini l'avvocato dovrà far luce sui segreti della compagnia composta dal ventriloquo benjamin woodman me lo ricordo il ventriloquo era un figlio della mignotta dal clown lorence carls e dai fratelli acrobati ken e shawn dinglingling oltre alla figlia di russell la domatrice regina me la ricordo regina che c'era tutto un intrigo c'era tutto un intrigo ha fatto il riassunto franciccio aspetta che lo metto in sovraimpressione finisco a questo punto da da wikipedia e poi e poi faccio e poi mi leggo il tuo un ultimo l'ultimo episodio era relativo a un triste addio si chiama l'ultimo episodio è principalmente ambientato all'interno dell'hotel gatewater dove nella stessa sera viene uccisa la star televisiva joan corrida e viene rapita maia la condizione per il rilascio della ragazza è un verdetto di innocenza per matt engard il principale sospettato dell'omicidio mi ricordo che quest'ultimo caso era veramente difficile mi ricordo male comunque io poi alla fine sappiamo cioè la cosa che mi ricordavo io era che spuntava fuori edgeworth e tutti a chiederci ma da dove cacchi era finito edgeworth che aveva fatto perché era sparito e ora leggo da traduco dalla wikipedia inglese edgeworth spiega che la sua assenza è stata passata a cercare molto a livello proprio profondo la risposta a quello che vuol dire essere un procuratore un procuratore ok poi quindi a questo punto loro due si si riconciliano fanno pace e nel frattempo franzisca ve la ricordate quella con la frusta si prefigge diciamo lo scopo insomma cerca di si impegna a rinunciare alla sua professione che alla fine insomma è che è caduta un po un po in disgrazia diciamo lei edward poi si confronta con lei all'aeroporto dove franzisca scoppia in lacrime e ammette che è sempre stata gelosa di edgeworth e che voleva distruggerlo ma ora ha cambiato idea e sente che non può diciamo sobbarcarsi questa grossa perdita sulle spalle ok riconoscendo che lei ha bisogno di trovare la risposta a quello che lui ha fatto ah no 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 scusate lei riconosce che deve intraprendere questo cammino di introspezione per anche lei rispondere alla stessa domanda che ha risposto lui quindi torna in germania e si porta presso una foto di phoenix c'è anche bambini attenzione un finale alternativo questo non lo sapeva neanche franciccio scommetto dove engard viene dichiarato innocente ma no me lo ricordo c'era un certo punto in cui c'era un bivio no in realtà lo sa franciccio e il suo manager viene praticamente incastrato in un processo su seguente diciamo phoenix convinto che non può continuare come avvocato si si ritira a ok questa è un mega bad ending proprio ok mo leggiamo quello che aveva scritto franciccio allora cerco di fare un riassuntino mercoledì mi arrivo a ok ma non era un riassunto dio scusa franciccio ho messo in vabbè che tanto qui accanto scusa franciccio mi dispiace di aver spiattellato le due le tue cose private in prima pagina sulla sulla sopra la mia faccia però vabbè è andata così pensavo che era il riassunto del del gioco va bene comunque intanto leggo un'azienda di utile mi chiama per fissare un colloquio con altre probabilità di assunzione quindi in questi giorni ho fatto tutto per prepararmi certo viaggio alloggio vestiti valigia cercare mettere tutto necessario eccetera tutto pronto oggi dopo non so mi arriva una chiamata e di nuovo l'azienda che mi dice che ci sono stati problemi a cavolo vabbè però sono stati annullati i colloqui non è che è saltato tutto nel senso saranno saranno stati rimandati spero no o sono proprio annullati e non si sa più che cosa è successo e e poi esatto è la stessa domanda che ti avrei fatto io ma ti saresti poi trasferito oppure c'è sì dubbi phoenix wright è un avvocato è questo dovrei ah no phoenix wright è un avvocato e ha come socia alla sorella della sua fu mentore le quali hanno e avevano poteri psichici questo per esempio è da mettere in sovraimpressione esatto non non poverino la storia di della vita di franciccio le quali hanno ok attorno alla posizione di erede del clan delle due gira una cospirazione fra la famiglia principale e le branch family questo non lo sapevo cioè sì sapevo che avevano poteri psichici che questa era una delle basi proprio dell'episodio precedente ma non sapevo quella cosa delle reddit eccetera dopo questa bellissima notizia che mi ha abbattuto vedo se posso rimborsare il biglietto e scopro che ahia porca miseria se fossi andato bene ti saresti proprio trasferito ma quindi sono stati annullati proprio non ho citato il personaggio migliore shelly the killer non l'ho citato perché non è scritto su wikipedia quindi prenditela con loro in caso speriamo che sia solo rimandato esatto probabilmente la cosa di qualcuno positivo al collo insomma sì casini organizzativi e cose del genere ti hanno detto che per ora non sanno quando riprenderanno ah ok però ti avrebbero chiamato per fissare un nuovo colloquio dai dai allora noi incrociamo le dita per questo nuovo colloquio e insomma speriamo bene che lo facciano va bene non mi avete risposto se volete streamriders quindi deduco di no quindi non lo avvio e vado veniva detto nel due nel due ah nel due spuntava fuori la zia di maya ovvero la madre di pearl il bello è che maya che è il prossimo capo del clan ok in linea di successione e pearl sono amicissime e se ne sbattono ampiamente di sto diciamo di 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 questa lotta intestina che c'è ok dai franciccio su pensa positivo semplicemente hanno rimandato e succederà che tipo settimana prossima ti chiamano già incrociamo tutti i diti esatto va bene vado ti è venuto in inglese hai fatto bene certo capita spesso anche a me di ricordarmi la parola inglese ma non quella in italiano quindi figuriamoci allora vado e ricordo come si fa vado eh poi altrimenti voi tanto non ci avete fretta no forse un po' si vadi vadi frantocci frantocci con la aspetta aspetta che c'è giusto qui qui c'è il momento protesto aspetta no protesto protesto bellissimo protesto è bellissimo è più forte questo ovviamente sono qui per tirarti su di modale vai bravissimo vado italiano ovviamente una partita la rivincita episodio 1 la rivincita come ho fatto a cacciarmi in questo guaio perché perché l'ho fatto partiamo a bombazza proprio quella ragazza non dovresti vederla più ehi non sono affari tuoi lo dico per il tuo bene se continuerai a vederla ti assicuro che finirà male bugiardo ascolta c'è una cosa che dovresti sapere su di lei smettila non azzardarti a parlare di lei in questo modo ah ok è stata una reazione a a una frase che ci ha poco convinto diciamo oh 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 non sono stato io 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 non ma c'ha la maglietta con la B io non ho fatto niente cioè si è colpito da solo questo poveraccio 5 anni prima come 5 anni prima secondo processo di Miafei ok come ultima cosa ho detto in linea di successione perché la madre di Maya è mia che al momento è dispersa dopo essere caduta in disgrazia in un caso passato è ancora ufficialmente il capo del clan ah ok ok questo è importante come cosa ok mi tocca vedere la live a 160p ahia vabbè che tanto in realtà il gioco è anche a risoluzione inferiore di quella quindi puoi andare tranquillo avete problemi di linea mannaggia però io non non ho senso estetico ho riconosciuto il tizio con la felpa dosta sembrava Phoenix no? c'aveva pure l'AP di Hurricane Polivar no in realtà di Phoenix o no? non era Phoenix? leggi tutto? che vuol dire? certo che leggo tutto in che senso? era Phoenix? ok che ne so poi magari sai voi siete molto suscettibili quando non riconosco un personaggio no? quindi mi sono andato con i piedi di piombo stavolta bene io faccio le battute ho letto a metà no non è vero anche io ho problemi di linea ma in un altro ahhh è vero l'ho l'ho assimilato quell'ultimo pezzo senza dirlo sì no in effetti la pettinatura è inconfondibile però che ne so ogni volta mi sbaglio sembra che sbaglio quindi mi avete messo in soggezione quindi mi 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 diciamo che mi cautelo ecco 11 aprile ore 9.40 quindi siamo tornati indietro di 5 anni finalmente ah ma quanto durerà questo questo capitolo vediamo un po' bambini questo è un giochino che facciamo sempre durerà 20 20 ore 25 ore più o meno ok aspetta 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 perché adesso vediamo quello prima uguale quindi più o meno ci metteremo uguale all'altro quindi 14 live bene ci rivediamo a a giugno è disturbante vedere proprio tutto tutto a bassa qualità posso immaginare per carità vorresti averla tu tanto la ciccia vera è proprio è l'ultimo caso ah ma dai facciamo solo l'ultimo allora no eh no eh non esiste è vero considera che stai vedendo anche darsi il retro gaming così è vero stai vedendo un main retro gaming bellissimo ok sono bellissimi tutti stavo scherzando stavo scherzando giuro stavo scherzando comunque sono un po' nervosa quindi siamo siamo con mia oh signor Grossberg buongiorno oh mia cerca di calmarti non vorrai farti subito arrestare con l'accusa di comportamento sospetto ma guardi che si sbaglia sono tranquilla signor Grossberg Grossbrova Grossbrova tranquillissima sì 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 per carità stavo scherzando giuro mamma mia incavolate subito smettila di strottonarmi forse non hai il carattere giusto per fare l'avvocato io mi dispiace oggi sono un po' nervosa è vero questo è il tuo grande debutto vero l'ho triggerato esatto Grossbrova beh non temere mia cara io Marvin Grossberg sono al tuo servizio in realtà questo è il mio secondo processo comunque la richiesta che mi hai fatto ieri sera mi ha accolto un po' di sorpresa mi hai chiesto lasci che sia io occuparmi del caso e con quale vehemence sono venuta al corrente solo ieri del caso intendo cosa? e ne hai già studiato tutti i dettagli? beh ecco vedi certo che domande almeno credo oh povero me comunque ti consiglio di non farti vedere in questo stato dal nostro cliente oh sacrifichi addirittura i giga per la darch tv beh cavolo grazie grazie davvero vedi quel giovanotto con il maglione rosa laggiù? è il nostro cliente ok ora è tutto chiaro ma qui è come si sono conosciuti praticamente ma dai ma non era un avvocato neanche cioè all'epoca che che era uno studente tipo buongiorno a tutti buongiorno sorridi mia volevo solo dire che farò del mio meglio andrà tutto benissimo nessun problema cough cough e ciù e ciù perfetto non si sente bene ha preso un brutto raffreddore signor vry mi chiamo vry sa come i fratelli volanti si sbagliano sempre tutti buonasera sono gross oggi il mio compito è di annusarmi i baffi e fare il saccente con mia oddio gross gross come cominciamo bene questa serie oddio qua va ancora all'università quindi sta studiando legge ha la mascherina è vero oddio l'ho talmente assorbita che mi sembrava una cosa normale pensa grazie comunque di tutti i bit mi chiamo vry come i fratelli volanti e ho preso il raffreddore sì ecco perché indosso questa mascherina secondo il mio medico in questo modo non contagierò nessuno o almeno spero beh sì serve a quello è uno studente d'arte? ah beh signor vry oggi non avrà nulla da temere se è davvero innocente prometto che la salverò smetta di strattonarmi per favore sì quello nervoso dovrebbe essere lui io non sono sotto processo devi farti coraggio mia per il bene del tuo cliente ma qua c'è in questo episodio c'è qualche meccanica di quelle nuove che ogni tanto si inventano per rendere la cosa un po' più originale e diversa dagli altri tipo appunto come era l'altra volta quello di sbloccare i lucchetti sicuramente sì il mio nome è Mia Fey sono un avvocato ancora inesperto il mio primo processo risale a un anno fa ok ma mi traumatizzò così tanto che da allora non ho più messo piede in tribunale bene ora è passato un anno ed eccomi di nuovo qui ma questa volta vincerò vincerò per il mio cliente Giorgio buonasera sono Giorgio questa sera parleremo di Phoenix Reef che mette la maglia col coricione e l'iniziale di Pietro perché evidentemente è un suo grande fan un ventilatore gigante la P di Pietro in questo capitolo non c'è nessuna nuova tecnica tutte quelle imparate nello scorso capitolo ah ok ok quindi cioè è più o meno come ambientazione come ambiente tecnico di gameplay è è come quello prima ok quindi ci sono i lucchetti che a me non è che piacevano tantissimo comunque va bene la corte si riunisce per sottoporre a giudizio l'imputato Phoenix Bright la difesa è pronta l'accusa è pronta oggi la difesa è rappresentata da dalla signorina Mia Fey sì vostro onore c'è qualche problema credevo che l'avvocato difensore dovesse essere il signor Marvin Grossberg anzi Grossbrum sì beh ecco il signor Grossbrum ha avuto un contrattempo un contrattempo ma non è lui quello seduto accanto a lei sì ecco lei è molto giovane è sicura di essere all'altezza della situazione non farti intimidire Mia sfodera uno sguardo deciso certo vostro onore bene signor Payne la sua dichiarazione d'apertura per favore bene 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 non posso credere che un veterano come me sprechi il suo tempo con una dilettante non si preoccupi cara presto sarà tutto finito cara mi sta prendendo in giro per caso bene vorrei iniziare riassumendo gli eventi del giorno in questione l'incidente è avvenuto nel campus dell'università Lupios la vittima è uno studente di nome Doug Swallow era uno studente del quarto anno di farmacologia pare che fosse un ragazzo molto in gamba problemi quali problemi con i bellissimi occhi che si ritrova signorina va tutto benissimo senza dubbio abbiamo una foto scattata sulla scena del crimine bene buonasera sono Giorgio questa sera parleremo dello sguardo deciso di Mia un gran bello sguardo molto deciso bellissimo sguardo devo dire concordo con Giorgio sì 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 veramente bello concordo alcuni studenti sono arrivati sul posto poco dopo il delitto trovando il corpo dell'imputato vanificando il suo tentativo di fuga poi hanno chiamato la polizia tutto ciò rende l'imputato estremamente sospetto molto bene la corte accetta questa foto come prova oh che bello il coso delle prove comunque da questa foto non si capisce la causa del decesso eh allora è davvero sagace come dicono vostro onore ma come perché ti rivolgi così al al giudice in effetti la causa del decesso è piuttosto insolita cosa intende dire beh perché non lo chiede alla difesa una semplice domanda giusto per rompere il ghiaccio lo consideri un gesto di cortesia da parte mia un cosa? devi tenere di testa mia mostragli che pasta sei fatta ah un'occasione perfetta allora sai qual è la causa del decesso forza rispondi ti prego dimmi che sai almeno questo mi dispiace ma non ho affatto in tempo a leggere l'intero dossier le mie emorroidi iniziano a farsi sentire apri bene le orecchie dottor pain lei è molto carino a dirmi che sono una sagace ma può gentilmente staccare la sua lingua dalla mia chiappa tutti i dettagli nel caso sono archiviati nel registro ma ovviamente questo lo sapevi già ah giusto il registro devo aprirlo e toccare il pulsante apposito il registro contiene tutte le armi di cui abbiamo bisogno studia attrettamente tutte le informazioni che contiene e rifletti prima di rispondere certo lo farò ok devo restare calmo non posso lasciarmi battere da quel procuratore il registro processuale allora l'avvocato difensore è in grado di rispondere alla domanda? qual è la causa del decesso? dai ecoregistro allora foto del crimine il diritto è avvenuto dietro un edificio non c'è rile a niente perché noi dobbiamo vedere questo fulgorazione ma questo è il personaggio degli altri videogiochi che praticamente si scopre che sono ambientati nello stesso universo? Max Payne? no il registro processuale afferma chiaramente che la vittima è morta fulgorata ma come è possibile? l'assassino ha usato uno sfollagente elettrico superpotente per caso? la risposta alla sua domanda sarà chiarita nel corso del processo ma prima dovremmo occuparci di un dettaglio ancora più importante quale? il movente eh sì uno è figo e l'altro no pare che tra le vittime e l'imputato non corresse buon sangue oh sul serio? in che senso? ops quanto mi dispiace lei è l'avvocato difensore quindi dovrebbe saperlo sarebbe alquanto scortese da parte mia rubarle la scena quella sua arroganza non mi piace affatto tipico è viscito come una serpe buonasera sono Giorgio questa sera parleremo di come funziona la giustizia in Giappone ci sono i procuratori e il loro contrario sono le sperperamocche certo giustamente grazie di questa precisazione non per niente lo chiamano l'ammazza dilettante bene la parola la difesa quindi qual era il motivo dell'astio tra la vittima e l'imputato questa volta però gradirei delle prove grazie tutt'al più contro mucche prove? aspetta tranquillo non agitarti come ho detto tutte le nostre armi sono nel registro processuale trova la prova che ti serve poi sbattica in faccia al vecchio barbuto vabbè ci sono due cose nel registro ovviamente questo è il tutorial quindi signor Grossberg la prossima volta trovi un'espressione migliore per la signorina il registro processuale non contiene solo le prove ma anche i profili puoi passare in un attimo dalle prove ai profili quindi non lasciati sfuggire nulla qual era il motivo dell'astio tra Phoenix Bright e la vittima profili il motivo dell'astio allora fidanzata di Phoenix usciva con Doug probabilmente forse forse è lei il motivo dell'astio vabbè che poi l'abbiamo visto anche nella cosa in introduzione il motivo del loro astio era questa ragazza Daila Hawthorne giusto? complimenti signorina Faye finalmente è riuscita a imbroccarne una mi sta sul cazzo questo già questa ragazza è la fidanzata dell'imputato Phoenix Bright ma fino a otto mesi fa usciva con la vittima di sicuro ha un ruolo molto importante in questa vicenda bla 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 vedo che il signor Payne non ha perso il vizio è riuscito a condizionare il giudice prima dell'inizio del nostro controinterrogatorio molto bene può chiamare il suo primo testimone se la corte me lo consente l'accusa vorrebbe convocare l'imputato stesso cosa? l'imputato? la difesa è d'accordo? certo tanto Wright è innocente no? la difesa non ha nulla da obiettare bene oh attenzione la corte invita quindi il signor Wright è riuscito a salire sul banco dei testimoni ma non sono stato io sono innocente lo giuro io vi posso garantire che esorto l'imputato a non passare il raffreddore al resto del tribunale pare che il signor Wright abbia qualcosa da dire va bene vediamo ci parli del suo legame con la vittima oh attenzione io e la vittima io mi trovavo lì ma non sono un assassino ho solo trovato il suo corpo non conoscevo affatto quel tipo non avevo mai parlato con quel presuntuoso pseudo inglese ok capisco quindi non conosceva affatto la vittima esatto e non sono un assassino sembra che il giudice sia convinto sì certo si convince già così infatti sei un po' troppo ingenuo pare che abbia dimenticato un piccolo dettaglio cara e sarebbe l'imputato deve essere ancora sottoposto al cosiddetto contro interrogatorio ha ragione spetta alla difesa a condurre il contro interrogatorio lo scopo è capire se la deposizione contiene delle contraddizioni se la deposizione contraddice in qualche modo il registro significa che è falsa ma il signor Wright è il mio cliente il tribunale tutte le menzogne devono essere devono venire a galla anche quelle dei propri clienti è un tuo dovere mia cara ma che significa possibile che la deposizione di Wright sia davvero che contenga una contraddizione tipo per esempio che non è vero che non ci aveva mai parlato perché noi lo sappiamo benissimo può procedere con il suo contro interrogatorio vabbè il primo caso è veramente semplicissimo quindi vado direttamente al punto è questo cioè non è possibile ci sarà qualcosa che contraddice studente è una foto un attimo mazza oh che voce profonda che c'hai possiamo vedere la foto ah ecco ok non avevo mai parlato con quel presuntuoso pseudo inglese vabbè per il momento non possiamo non saprei ah si può incalzare però aspetta signor Wright ha appena dichiarato testuali parole non conoscevo affatto quel tipo eh sì perché mai avrei dovuto ma c'è qualcosa di strano se non lo conosceva affatto come sostiene allora come fa a dire che era un presuntuoso pseudo inglese ah ok era semplicemente così sì è vero è vero è vero mi ero dimenticato dell'incalzaggio no non sono stato io non sono un assassino giuro signor Wright le lascerò modificare la sua deposizione ci spieghi come faceva a sapere che la vittima era pseudo inglese ok se ne andava sempre in giro con una grande union jack sul retro della maglietta una che? ok chiedi potresti la fare sì certo perché non dovrei farcela un anno fa ero in un'aula come questa posso farcela anche adesso me la caverò non fare il passo più lungo della gamba la ba ah intende proprio la bandiera ok sì sì vabbè ho capito ho capito ho capito ho capito se ne andava sempre in giro con una grande qua dobbiamo l'ha vista sul luogo del delitto la bagniera intendo sì certamente l'ho vista proprio sul luogo del delitto ecco perché ho pensato che fosse un amante dell'inghilterra è tutto vero parola d'onore ok potrei fargli una domanda che vorrà mai sapere chi sarebbe questo jack union è il nome della bandiera ok un po' come la bandiera se le strisce esatto come al solito il suo intuitio non manca mai di stupirmi mi è appena venuta in mente una cosa sbaglio o c'è qualcosa di strano in quest'ultima parte della deposizione sento puzza di contraddizione dimostra a quel giovanotto che fai sul serio con una prova e vabbè e ce n'abbiamo solo una di prova sì posso farcela santo iddio che palle ho capito va bene dai vai avanti allora ok qua dovrei mostrare tipo la foto evidentemente no c'è solo questa di prova ciao buonasera sono peine di professione ah non c'è qui non mi pare ci sia sbaglio è questo il problema sul retro della maglietta ah nel senso che la maglietta è coperta no sarà questo esatto non c'è non c'è è davvero sicuro di aver visto la bandiera sì ne sono sicuro ce l'aveva proprio sul retro della maglietta dove vuole arrivare guardi bene guardi bene la foto come puoi vedere non c'è assolutamente nulla sulla schiena ma indossa una giacca di pelle e la bandiera era dietro la maglietta sì ma mi pareva che lei avesse trovato casualmente il corpo della vittima in tal caso come faceva a saperlo come faceva a sapere cosa indossava sotto signor Wright lei sta mentendo mi perdoni non si mette a piangere in modo pietoso hai fatto piangere il nostro cliente ma che pianga pure forse quella più sul suo maione significa proprio piagnucolone e io che mi sono fidata di lui che stupida dimmi Giorgio buonasera sono Giorgio perché signor giudice la giacca di pelle lames dopo essere morto addirittura davvero niente male come contro interrogatoria la ringrazio per aver smascherato le menzogne dell'imputato al posto mio eh ed è dovere è evidente che il signor Wright non si trovava per caso sul luogo del delitto forse ho esagerato comunque signor Wright il suo raffreddore sembra molto serio sta prendendo qualche farmaco sì 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 ho preso qualcosa ma per caso ho utilizzato un farmaco a basso costo chiamato ammazza raffreddore sì esatto lo ammazza lo ammazza che è un piccolo ehi un momento come fa a sapere che sono un grande fan dell'ammazzaraffreddore eh 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 per caso lo ha qui con sé in questo momento temo di averlo perso da qualche parte l'ha perso ma questo che c'entra you're right vuole sapere dove si trova il suo farmaco contro il raffreddore la invito vostro onore a osservare ancora una volta la foto della scena del crimine la vittima ha in mano un flacone di ammazza raffreddore attenzione beh anch'io ho un flacone di ammazza raffreddore a casa mia mi dispiace per lei ma temo che non abbia alcuna importanza possiamo risalire con certezza al proprietario di questo flacone dal momento che presenta le impronte digitali del signor right ehi si mette maluccio era raffreddato anche lui esatto intuendo le sue intenzioni omicidie la vittima deve aver raccolto il flacone nascondendolo nella sua ha una voce veramente orrenda esatto in questo modo avrebbe potuto indicare phoenix right come il suo assassino silenzio vorrei presentare questa foto e il flacone come prove va bene che siano subito messa agli atti del processo ok foto e flacone inoltre l'orologio da pulso della vittima è rotto ha smesso di funzionare quando è stato attraversato da un'intensa scarica elettrica ebbene signor right avrebbe una spiegazione per tutto questo si mette molto male già che sofferenza le mie povere 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 morroidi oh cominciamo cominciamo subito con un altro con un'altra deposizione a dire il vero mi aveva chiamato lui era il dipartimento di farmacologia quindi ci siamo trovati lì alle 14 45 abbiamo parlato un po' di un po' ci siamo separati intorno alle 15 e in seguito quando sono tornato indietro l'ho trovato lì per terra prendevo la mazza raffreddore da due o tre giorni ma ho perso il flacone proprio quel giorno intorno all'ora di pranzo ok signor right è un po' diversa dalla precedente gross e le morroidi va bene mi scusi vostro onore temevo che non mi avrebbe mai creduto onestamente non penso che la sua nuova deposizione sia molto più credibile proceda con il suo controinterrogatorio ti prego right basta bugie e non ci giurerei tanto allora mi aveva chiamato ma io incazzo tutto come al solito così aveva mai incontrato la vittima prima di allora no mai ma quel giorno mi aveva chiamato dicendomi che voleva parlare di dolly e chi sarebbe questa dolly la mia ok imbarazzo la mia dolce metà che ti prende mia oh mi scusi all'improvviso ho avuto bisogno di dare uno schiaffo a qualcuno dahlia era anche la fidanzata di doug prima di incontrare il signor right ovviamente uno di quei soliti triangoli amorosi insomma no chi triangoli amorosi comunque era al dipartimento di farmacologia quindi ci siamo trovati lì alle 14.45 va bene è stato il signor suolo a proporre di incontrarlo alle 14.45 si siamo arrivati entrambi in orario ha detto che la vittima era al dipartimento di farmacologia si studiava come produrre e migliorare certi farmaci tutti lo chiamavano l'alchimista dell'allupios un alchimista interessante devo ammettere che è una cosa un po' strana lui aveva un laboratorio tutto per sé oh un laboratorio pieno di sostanze chimiche e strani macchinari ad alta tensione oh ancora più interessante sembrava un ragazzo molto ambizioso oddio non è stato un incidente tipo cosa posso fare? dovrei chiedergli maggiori dettagli? magari è stato un incidente tipo si è autofolgorato non so con qualcosa che aveva con sé o con qualche strano marchigegno che aveva usato ok e dettagli dettagli su su che? ma in generale tanto li possiamo chiedere su tutto cioè se adesso scelgo tipo il dipartimento poi posso scegliere anche su loro oppure devo sceglierne uno sarà per sempre quello non esistono morti accidentali ok anche se non so molto del dipartimento poco fa ho detto qualcosa di molto interessante ha affermato che in quel laboratorio usano strani macchine no a me interessavano questi infatti esatto e le assicuro che sembrano molto pericolosi usano tensioni particolarmente elevate quindi ci sono cavi elettrici dappertutto cavi elettrici ad alta tensione sì intorno all'edificio ci sono molti pari della luce i cavi ad alta tensione circondano l'intero dipartimento ho imboccato la strada giusta ok ok ci siamo separati alle 15 se fosse stato l'incidente non avremmo avuto tutto il gioco perfetto di cosa avete parlato esattamente ci siamo detti che avremmo dovuto rivederci un giorno che avessi dovuto rivedervi sì come no vabbè l'ho trovato lì per terra quindi a un certo punto è tornato indietro è stato allora che ho trovato il corpo ma per quale motivo è tornato indietro non era arrabbiato beh sì certo che lo ero allora signor Wright ci vuole dire perché è tornato indietro ho pensato che avremmo dovuto fare pace ok e ciù e ciù e ciù a giudicare dal silenzio credo che nessuno gli creda no prendevo il coso per il raffreddore da due o tre giorni è abbastanza di insolito prendere il raffreddore in questo periodo dell'anno non trova? già ma per me il passaggio da una stagione all'altra ha sempre un effetto devastante forse non dovrei dormire con la finestra spalancata inizio primavera forse il senso comune non è poi così comune per lui ma che c'entrava la finestra spalancata? mi dica qualcun altro sapeva che lei prendeva quel farmaco? prendevo una pastiglia dopo i pasti quindi sono sicuro che tutti i miei amici ne erano al corrente vabbè c'entrava un cavolo questa cosa ho perso il flacone proprio quel giorno intorno all'ora di pranzo questo è interessante cosa ha mangiato a pranzo il giorno del delitto? e che c'entra? non si sa mai ho mangiato insieme a Dolly eravamo da soli i piatti fatti in casa di Dolly sono fantastici le sue mini omelette sono mega deliziose perché mi ha dato un pugno in faccia? lei rosica oh mi scusi all'improvviso ho avuto voglia di fare del male a qualcuno va bene vabbè per il momento basta ma l'imputato e la vittima si sono incontrati intorno all'ora del delitto poi l'imputato è tornato sul luogo del delitto per una ragione sconosciuta inoltre la sua spiegazione riguardante il flacone di farmaci non mi convince signor Wright in tutta sincerità la sua deposizione non è attendibile che intende? sapevo che tutto questo era troppo per una dilettante hai capito Phoenix? Don Joe Wright sapevo che tutto ok tuttavia resta ancora un mistero da risolvere oh davvero? la dinamica del delitto come ha fatto la vittima a morire folgorata? mi pare che l'arma del delitto non sia stata ancora determinata giusto? beh io ha ragione vostro onore e allora come hanno fatto a ucciderlo? beh se è morto folgorato ci sarà qualche che so qualche segno per terra un punto in cui ha preso la corrente ci sarà no? forse potrei uscire da questo pasticcio in me che non si dica oddio aspetta aspetta fammi vedere vabbè il cavo questo è ovvio si vede nella foto eppure la scintilla scusate oddio spero che no dai non è una scintilla sarà un caso no no dai è quello vostro onore credo che mettendo insieme tutto ciò che abbiamo appreso finora potremmo riuscire a capire come è stato ucciso il signor Swellow eh porca miseria sarebbe magnifico c'è una bella differenza tra il dire e il fare e credo che anche una dilettante come lei conosca la regola a base dei processi gli avvocati difensori devono sostenere le proprie tesi con delle prove certo che lo so ma in realtà me l'hanno completamente dimenticata perché noi siamo siamo avvocati seri mi spieghi come la vittima è stata fulgorata ma come devo fare devo mostrargliela no? relativamente alla tematica del delitto direi che questa foto la dimostra chiaramente ma in questa foto non c'è nulla che somigli vagamente a un'arma del delitto ma sei scemi temo che la differenza dovrà fornire una spiegazione la cosa? la difesa la difesa signore vado ora sarebbe ah ok devo cliccarci sopra ah ok 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 ma è proprio qui ovviamente ma quello ma quello ma quello cos'è? è un cavo vostro onore ripensi alla deposizione che abbiamo appena sentito i macchinari del dipartimento di farmacologia funzionano ad alta tensione quindi ci sono cavi elettrici speciali praticamente ovunque mia assomiglia un po' troppo ad arch in che senso? il cavo io non c'ho quelle dette io il cavo ad alta tensione purtroppo sì il cavo ad alta tensione è la causa del decesso deve essere così sembra un'ipotesi plausibile signor Peina ha qualcosa da dire in proposito? ma innanzitutto dovremmo complimentarci con il nostro giovane avvocato ma non mi prenda in giro vecchio si calmi quel cavo ad alta tensione potrebbe essere davvero la causa del decesso tuttavia vorrei che pensasse al vero significato di tutto ciò sì sì lo avevo immaginato vorrei che pensasse al vero significato l'unico che avrebbe avuto l'opportunità di usarlo come arma del delitto è proprio l'imputata e ciò immaginatevi mia con la barba esatto e senza senza dette perché perché quella cosa è importante dubbiamente e non è tutto abbiamo delle prove inconfutabili che dimostreranno la colpevolezza del signor Bright o davvero di quali prove sta parlando? beh delle sue impronte digitali impronte sta dicendo che le impronte dell'imputato non sono state trovate solo su quel flacone? ok osserviamo ancora una volta tutta la foto della scena come può vedere la vittima indossa una giacca di pelle e come saprà bene la pelle conserva molto molto bene le impronte digitali senza il suo bellissimo sguardo deciso non tutto dopo il primo processo che chi conosce il gioco sa come è andato attenzione intende dire che si si vede chiaramente nella parte anteriore della giacca all'altezza del petto l'impronta del palmo cosa? il signor Bright avrebbe potuto lasciare quell'impronta in un solo modo intenzionato a uccidere ha spinto la vittima verso il cavo elettrico ah ok è però una cosa simile si è vista nell'animazione all'inizio si è visto lui che comunque lo spingeva forse chiaramente non con quello scopo ecco silenzio credo che non ci sia più alcuna ragione per continuare questo controinterrogatorio ecco siamo spacciati signor Grosblum le mie emorroidi non sbagliano mai ma perché ma potevate fare non lo so il ginocchio come la classica cosa no l'emorroidi per noi è finita appena ho visto quel giovanotto ho capito subito che era colpevole ah voleva toglierlo devi essere veramente stupido veramente ingenuo per non sapere che quanto affermi in un tribunale deve essere sostenuto eh certo infatti boh vabbè questo è un pretesto per farti fare il tutorial dai mettiamola così il signor Wright è innocente non servono altre prove per convincermi della colpevolezza in realtà a vostro onore sono pronta di mettere il mio verdetto finale un attimo ha qualcosato da aggiungere signorina Faye è davvero questo che vuole signor Wright non ci ha ancora detto la verità tutta la verità se non si decide subito a parlare il giudice formulerà il suo verdetto allora non fate pensare a Mia che se l'era scordato sì in effetti cioè la fai passare per per poco professionale ecco sì esatto oppure un po' distratta un po' un po' presa dal dall'emozione dall'agitazione un po' emotiva ecco ma io non posso dirlo se raccontassi ciò che è successo veramente io sarei non si preoccupi signor Wright sono il suo avvocato di me può fidarsi signorina fai qualsiasi cosa dirà io le crederò e la difenderò fino all'ultimo abbiamo già stabilito la colpevolezza dell'imputato non è tenuto ad aggiungere nulla è troppo alto il volume del gioco ditemelo un momento signor Wright io vi dirò cosa è successo davvero alleluia ma signor Wright le ho già detto che non è tenuto va bene ok io l'ho fatto lo ammetto sono stato io a spingerlo è colpa mia è colpa mia se Doug è morto ma vedi che è stato un incidente allora buonasera sono Phoenix Wright quella sera ho trovato quel tizio e l'ho colpito col cavo dell'alta tensione ai 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 si è intrufolato nella live Phoenix Wright che ha confessato quindi voi mi state dicendo che lui l'ha spinto chiaramente non volendo farlo finire sul cavo quindi sul cavo ci è finito per sbaglio ma il cavo era stato messo lì da qualcuno che voleva ucciderlo what the fuck ciò che ha appena detto è la verità sì io avevo paura temevo che se avessi raccontato la verità tutti avrebbero pensato che fossi io l'assassino beh a dire il vero siamo tutti assolutamente convinti della sua colpevolezza caro Phoenix Wright la prego chiedo solo un'ultima opportunità per spiegare questa volta giuro di dire tutta la verità andrà tutto bene vero signorina fei io mi fido di lei va bene grazie non posso crederci allora ha davvero spinto la vittima sembra che le mie emorroidi stiano ballando il tip tap beh perfetto grazie per questa bellissima immagine quel tipo stava parlando male di Dolly ho perso le staffe e l'ho spinto in quel momento ho sentito un rumore molto forte poco dopo essermene andato ho iniziato a preoccuparmi ah ok lui se ne è andato che vuol dire cioè tu l'hai spinto hai visto che questo è accaduto per terra non sei rialzato e te ne sei andato ah se bule stronzo quindi sono tornato indietro ma lui era per terra morto ok quindi l'hai spinto e diciamo per stizza sei subito girato per incamminarti per andartene va bene no infatti guarda è una cosa fondamentale questa delle emorroidi io direi di fare un piccolo box da oggi in poi sulla Darsh TV accanto alla mia faccia con proprio la insomma il diagramma delle emorroidi di Grosblur per impostare il mood della live potrebbe essere interessante come cosa comunque la spiegazione mi sembra un po' troppo semplice quando l'ha spinto il signor Swallow ha perso l'equilibrio e ha toccato il cavo reciso morendo fulgorato niente di più semplice in questo caso è un omicidio colposo tutte le emorroidi minuto per minuto no colposo no però oddio l'hai spinto si è colposo allora del delitto sul posto c'era una leggera pioggia visto che era bagnato per Doug Swallow è stato più semplice rimanere folgorato ma oppure si chiama omicidio preterintenzionale in questo caso perché tu comunque stai facendo un stai facendo un'azione violenta effettivamente perché spingere qualcuno comporta sempre un rischio per la vita di quella persona perché può anche inciampare sbattere la testa tutte cose però non è non è colposo quello è proprio preterintenzionale cioè tu fai un'azione che non è di per sé intenzionalmente atta a ucciderlo ma con la tua azione causi la sua morte ah tu dici che non è morto in quel momento però lui ha detto che appena cioè subito dopo averlo spinto ha sentito un qualcosa va bene quindi insomma il clou è capire se lui è morto a causa della spinta o no o dopo ah perché lui sta dicendo quando l'ho spinto lì vicino non c'erano cavi elettrici altrimenti l'avrei sicuramente notato ok anche un tonto come lui se ne sarebbe accorto va bene signorina Feim l'avverto che se il suo prossimo interrogatorio non evidenzierà nulla di nuovo formulerò il mio verdetto qualcun altro dopo lo ha ucciso ok ammazza quindi ok l'ha ucciso però cioè per cavoli suoi lui non è neanche bisogna capire quanto è passato da quando l'ha spinto a quando è tornato a vedere perché io cioè da come da come ho capito è stato immediato cioè lui l'ha spinto stava per andarsene poi ha sentito questo rumore e si è rigirato e è tornato indietro ma cioè sono secondi cioè qualcuno in quel in quell'asto di tempo ha infilato approfittato aspetta che forse ora potrei ucciderlo vediamo deve esserci qualche prova se è innocente davvero va bene devo capire quanto passa tra questo quale momento e soprattutto che tipo di rumore secondo lei di cosa si trattava forse la sua ragazza ok non ne sono sicuro ma era davvero molto forte un rumore tipo snap ma che ci penso mi chiedo cosa fosse ma sei scemo scusa però boh sta cosa di estrema stupidità dei personaggi cioè è morto folgorato se è tornato indietro era morto senti uno snap ma che sarà mai lo snap boh evidentemente vostro onore era il rumore della scossa che ha folgorato la vittima potrebbe essere potrebbe anche non essere a questo punto come può esserne sicuro eh no che sei matto chiedi quel rumore che ha sentito potrebbe essere essenziale ovviamente cerchi di ricordare di cosa si è trattato non ti sembra la faccia di qualcuno che uccide perché tu riesci a riconoscere chi vuole uccidere cioè chi è in grado di uccidere da una foto ma avremmo risolto praticamente tutto il crimine mondiale perché basterebbe analizzare le foto ok ah sembra ok come posso spiegarlo è stata una specie di schiocco molto secco ah potrebbe essere forse era proprio cosa potrebbe essere presto ce lo dica quando l'ho spinto lui ha lasciato cadere l'ombrello che aveva in mano ok è vero è vero l'ombrello ci è caduto sopra rompendolo ecco cos'è stato quel rumore un ombrello apparteneva alla vittima si era di plastica fragile e di scarso valore come il suo proprietario lol magari avessi avuto anch'io un ombrello ma ero bagnato fradici ignorina fei chi ne pensa secondo lei questo dettaglio ha qualche rivelanza l'ombrello l'ombrello rilevante ok sì certo anzi non è solo rilevante è proprio importantissimo chiedo ufficialmente che sia inserito nella deposizione va bene semplicemente perfetto un'informazione inconsistente per un avvocato inconsistente ah ok dopo questa frase dell'accusa sono sicuro che è importantissimo no 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 adesso è veramente cioè sono veramente sicuro che sia importantissimo è proprio una flag questa la corte accoglie la richiesta imputato aggiunga questo dettaglio dell'ombrello alla sua deposizione vai quindi dopo che l'ho spinto è caduto sopra il suo ombrello non mi sembra proprio Phoenix ma posso mostrare qui vai devo far così non c'è tipo obiezione ho obiezione ecco perché non c'è perché non c'è parlato subito di quell'ombrello beh se l'avessi fatto avrei potuto controbattere molto prima alle tesi dell'accusa che intende dire lo serve attentamente la foto della scena del crimine secondo il signor Wright la vittima è caduta sopra il suo ombrello tuttavia guardando bene vediamo che l'ombrello non è nemmeno vicino alla vittima ma accanto al palo della luce non è così che l'ha lasciato lui è esatto esatto tra l'altro ora mi viene probabilmente una cosa super palese cioè dall'animazione si vede proprio che lui lo spinge e lui cade di spalle invece poi dopo quando è tornato lo ritrova a faccia in giù adesso questa cosa mi era sfuggita prima non so perché perché è talmente palese che sarebbe dovuta essere la prima cosa da notare però effettivamente comunque ha ragione la conclusione è ovvia quando l'imputato si è allontanato la vittima si è spostata in altre parole dopo essere stato spinto il signor Swallow era ancora vivo si era arrotolato per la scossa no dai non ti fa arrotolare una scossa ad alta tensione cioè ti fulmina lì per lì no in voltino silenzio la vittima si è mossa il mio pay l'ombrello che si vede in questa foto dove si trovava al momento beh è stato racconto dalla polizia voglio che sia messo immediatamente agli atti processuali oh attenzione ecco l'ombrello l'ombrello potrebbe essere stato trascinato fin da lì fin lì da una follata di vento secondo la deposizione la vittima è caduta sopra il suo ombrello quindi è impossibile che il vento l'abbia trascinato fin laggiù riconosco che questo dettaglio dell'ombrello può sembrare insignificante ma finché rimane una minima ombra di dubbio non posso emettere il mio verdetto dai se non riuscite a guadagnare un po' di tempo nooo oppure il vento ha trascinato direttamente la vittima vero? comunque non riesco ancora a credere che sia stata aperta una falla così grande nella tesi dell'accusa in seguito alla deposizione del nostro imputato oh attenzione testimonianza di Wright ben fatto lol lol signor Payne perché sta ridacchiando in quel modo? mi scusi vostro onore forse ho preso troppo sotto a gamma questo caso e ho sbagliato a pensare di poter raggiungere il mio scopo interrogando l'imputato ui Pietro grazie dell'abbonamento regalato a Trish Pietruccio Pietruccio grazie davvero tantissimo grazie e quindi grazie di riflesso anche a Trish oppure la vittima ha trascinato il vento esatto franciccio esatto ho sbagliato ho sbagliato a pensare di poter raggiungere il mio scopo solo interrogando l'imputato temo di non capire cosa intende dire mi lascio indovinare lei ha un testimone precisamente e questa nuova testimonianza sarà incontrovertibile e chi sarebbe questo testimone niente popo di meno che la signorina Daila in persona Daila Dolly si la fidanzata dell'imputato ha assistito a tutto assistito wow si trovava sul luogo del delitto quando l'omicidio ha avuto luogo wow si infettisce la trama qui per lei deve essere una doccia fredda cara una doccia fredda è molto cara doccia fredda si sbaglia di grosso in realtà non aspettavo altro stava scherzando Mia ma cosa intendi dire credo che una pausa sia quanto mai necessaria sospendo l'udienza per 20 minuti al nostro rientro ascolteremo la testimonianza della signorina Daila evviva grazie Pietro davvero mi dispiace per tutto quello che è successo io non si preoccupi alla fine ci ha raccontato la verità signor Bright sì alla fine 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 però che cazzo quindi ora posso iniziare a rilassarmi no dopo aver nascosto dei fatti così importanti alla corte il prossimo testimone sarà la mia Dolly vero lei mi salverò so che lo farà cosa glielo fa pensare come sarebbe a dire lei è l'amore della mia vita non potrebbe fare altrimenti l'amore della sua vita potrebbe raccontarmi un po' di più sulla sua relazione con la signorina Daila certo nessun problema vai eh purtroppo non ho acqua quindi non ho anche modo di chiederla quindi niente stasera so a secco io e Dolly ci siamo conosciuti circa otto mesi fa in questo stesso tribunale vede nel tempo libero studio un po' giurisprudenza un povero ma ora non importa otto mesi fa ci siamo incontrati nella sala lettura al piano di sotto ecco perché penso che sia stato il destino unirci non appena l'ho vista ho capito che sarebbe stata la donna della mia vita oh già guardi qui me l'ha regalata il giorno del nostro primo incontro come simbolo del nostro amore quel giorno la indossava intorno al collo ma ad un certo punto se l'è tolta e nel darmela ha detto voglio che la tenga tu quindi te l'ha regalata questa piccola boccetta è piena di ricordi della mia cara Dolly è davvero piccola mi rende così felice che la mostro sempre a tutti voglio condividere la mia felicità con il mondo intero annuisce vedendo quell'immagine mmm è un caso intricato già come primo caso wow comunque da quel giorno lei e Dalia avete iniziato a uscire insieme sì ma è una ragazza molto timida ogni volta che la vedo mi dice sempre la stessa cosa ridammela subito ok che strada ragazza non è molto cortese chiedere indietro un regalo comunque signor Wright il giorno del suo primo incontro con Dalia otto mesi fa era per caso il 27 agosto sì come in questo stesso tribunale il 27 agosto è successo questo cos'è un articolo omicidio in tribunale mmm che storia è questa mia credo di aver capito cosa stai cercando di dire e credo di aver capito perché hai deciso all'improvviso di occuparti tu di questo caso pensi che ci sia un legame tra questi due casi giusto? ahhh attenzione la prego di capirmi signor Ghostblu io devo occuparmene da sola certo ma temo che tu non possieda abbastanza armi per farcela cara mia e mi chieschi che gli ha dato la prova del suo precedente omicidio per non risultare colpevole eh lo so stavo pensando anche alla alla collana cioè un motivo ci sarà quella collana è centrale chiaramente però ancora non ho ben capito perché comunque andrò a cercare andrò a dare un'occhiata alla sala di lettura appena di sotto non si sa mai grazie voglio fare il possibile per aiutarti mia la collana non è Uranian magari pare che la pausa sia terminata meglio che ci diamo una mossa oh già è subito che bello niente fronzoli ciao Marcello buonasera grazie del saluto anche se questa pausa mi è sembrata molto più lunga come va vuoi salvare i tuoi progressi ma si salviamo vai seconda manche l'udienza riprende può chiamare la testimone signor signor pain ok la persona che sto per rappresentare ha assistito personalmente al delitto l'accusa chiama a devore la signorina d'aglia madonna santa quelle quelle farfalline ma cos'è questo silenzio improvviso nella mia lunga carriera di giudice sono stato ingannato da molti testimoni il mio compito è proprio quello di dubitare di non fidarmi mai di nessuno ma nel suo caso devo ammettere che è avvolta da un alone di completa sincerità ma è a questo che ti riferivi franciccio è proprio lore è nello script che lei è visibilmente non non in grado di uccidere nessuno c'ha le farfalline esatto non credo alle mie orecchie oh comunque bene testimone la purezza esatto potrebbe fornirci le sue generalità non si preoccupa non ha nulla da temere se qualcuno sarà scortese con lei le prometto che prenderò provvedimenti sono il giudice di phoenix wright e sono un idiota patentato buonasera giudice si concordiamo tutti quanti che tu sia un idiota comunque mi hanno fatto alzare le tre per fare Roma Riccia Verbeteri Pumezia Riccia casa madonna oggi invece sono tornato alla Cassazione e ho spostato un intero archivio quindi stai praticamente collassando porca grazie del saluto ma vai a dormire perché cioè se stai collassando dice il veter immaginavo buonasera sono il signor giudice non si preoccupi non ci dia le sue generalità va bene lo stesso per lei ok e io userò il mio marteletto come arma perché ho come l'impressione che ce l'abbiano tutti con me oh grazie ora sono più tranquilla siete tutti così gentili qui mi sento a mio agio oh si figuri dovere dovere vabbè comunque proseguiamo potrebbe dirci il suo nome per favore la sua professione e tutte cose mi chiamo Dalia Hawthorne studio letteratura all'università Lupions volevo solo dirvi che per me è un onore essere qui in vostra compagnia oh l'onore è tutto mio no no l'onore è mio beh noi donne sappiamo bene come prendere gli uomini verso giù eh già eh già non facciamo i bravi ok te lo promettiamo Marcello grazie di essere passato dopo me la da esatto per favore però oh signore si posso fare qualcosa per lei dica pure sono sicura che c'è un errore fini non ucciderebbe mai nessuno lo so si si capisco benissimo non sarà affatto facile interrogarla ha impegnato più di 10 secondi per far pendere il tribunale dalle sue landa ciao Dario voglio oh ciao progettino buonasera grazie mille dei beat ma che se siamo tutti impazziti stasera mi state sommergendo di beat grazie grazie veramente tantissimo come stai? che combini? che combini ultimamente in streaming? io ovviamente non ho proprio tempo di 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 usufruire di di twitch da dal spettatore ma le poche volte cerco di di passare ok eh si si in effetti ci ha messo uno schiocco di dita per assoggettarvi bene può procedere con la sua testimonianza ci dica cosa ha visto il giorno dell'incidente per cortesia oh dai avevo intenzione di andare a trovare Fini al termine delle lezioni Fini e Dagi stavano parlando dietro l'edificio poff poi all'improvviso Dagi ha barcollato ed è caduto a terra è stato in quel momento che Fini si è accorto della mia presenza quindi sono andato a cercare altri studenti che poi hanno chiamato la polizia ok Goblins 2 senza finirlo ai 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 quello è tosto comunque il 2 ma e tu cerchi di farlo senza soluzioni apposta nel senso super blindissimo sei in un loop esatto sono senza parole secondo lei signorina Hawthorne l'imputato non ha fatto nulla di male signorina nonostante la mia età ricordo bene quanto ardono le fiamme dell'amore giovanile ciò nonostante il mio compito è quello di scoprire la verità non ci nasconda nulla la prego ma ma io io non potrei mai basta così testimone ne ho abbastanza di tutta questa storia che intende dire? mi faccia condurre il mio controinterrogatorio vostro nome e le assicuro che io non intendo vincere con un mucchio di futili menzogne chichi vedo che non è cambiata di una virgola mia fei come sarebbe a dire voi due vi conoscete? sì in passato ci siamo già incontrate una volta bene signorina fei la parola passa a lei sono lieta di rivederla sono lieta di rivederla rivederla signora fei signora non sono ancora così vecchia ragazzina c'è stato un momento di sconforto e abbiamo sbirciato ma ora siamo back on track abbiamo sbirciato mi fai ridere nel senso che ce lo capisco perfettamente il tipo di di sconforto che che puoi avere ma che scherzo no anche perché il tempo è quello che è ragazzi cioè non può non può passare un'ora un puzzle mentre streami le poche volte che puoi streamare con tutta la vita che ti che ti impegni eccetera uno deve anche un attimo a meno che non non ti prefiggi proprio quel quel tipo di 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 esperienza no a livello di streaming allora ok però cioè tocca campare un po' dalla chat non è che gli sia che gli si sia nemmeno troppo a mano no perché anche voi avete brancolato per essere il primo caso c'è già un sacco di carri al fuoco concordo stavo per dire la stessa cosa infatti facciamo una grigliata sì vai monkey island quella cavolo di polvere da sparo sulla diga e la lente col sole ah pure io pure io da ragazzino figurati non c'erano soluzioni non c'era niente al massimo potevi chiedere all'amichetto se per caso ci aveva giocato e se per caso aveva superato quel pezzo cosa che non era neanche possibile cioè che era anche possibile che non avesse fatto quindi erano altri tempi devo dire sì altro che mesi mamma mia lì lì cioè se non ti sbloccavi per conto tuo c'era poco da fare vabbè io qui incalzo un po' tutto tanto allora se non sbaglio il signor Wright studia arte ecco qua dove esce fuori perché lei si trovava in un divertimento diverso beh io studio letteratura in particolar modo la poesia shenryu giapponese oh magnifico è quello stile di haiku a metà tra l'ironico e il satirico tempo tiranno quando l'età avanza c'è solo sonno ma questa sarebbe poesia mi sembra piuttosto una crisi di mezza età per raggiungere il dipartimento devo attraversare quella zona ah ora capisco mi sembra logico quando voglio entrare in tribunale devo sempre attraversare l'ingresso sì come farebbe altrimenti col 3 dell'asporto ok che è a metà tra l'inobanfi e monti biden esatto chi sarebbe questo Doug oh mi scusi è Doug uscivamo insieme fino a 8 mesi fa da dirci di cosa stavano discutendo come può essere così crudele io io non avrei mai origliato non sono stata educata a modi così rudi e scortesi si vergogni signorina non trascini la testimonia al suo infimo livello ma perché ce l'hanno tutti con me proseguo testimone poi cosa ha visto mamma mia se li sta manipolando proprio all'improvviso Doug è barcollato secondo me è stata lei non lo so se è stata proprio lei però lei chiaramente in qualche modo c'entra quindi ci sta dicendo che la vittima è caduta a terra da sola sì insomma l'imputato non ha mai toccato la vittima dico bene non ho mai distolto lo sguardo fini non ha mai toccato Doug come non ha mai toccato scusa è lui stesso che ha detto che l'ha spinto se l'ha incalzo inutilmente il giudice me la farà pagare come dovrai reagire a questa sua testimonianza ah tu dici aspetta è contraddizione nel senso che c'è qualche testimonianza di Phoenix che ci dice che è stato spinto aspetta questo non l'ho controllato questo è l'orologio ok all'ora del decesso eccola questa non c'è non c'è niente collana con una boccetta regalata a Wright otto mesi fa la mostra sempre a tutti aspetta questo qua devo leggerlo si sta ancora poco sull'incidente avvenuto ieri nella mensa del tribunale distrittuale visto che la vittima sembra essere un avvocato ora la polizia sta intero quando la studentessa è 19 avani che era seduto allo stesso palco della vittima buonasera siamo i maschi del tribunale e in questo momento stiamo ragionando tutti con linguine attorno al quale svolazzano delle eterie farfalline esattamente esattamente ok stavo immaginando le farfalline che girano in posti dove non dovrebbero girare allora a me sembra che Phoenix abbia sempre detto che l'ha spinto però io effettivamente qui non ne ritrovo traccia non ne ritrovo menzione qua vedi è caduta sopra il suo ombrello è caduta sopra il suo ombrello ma tu dici che questo è il problema è l'ombrello vabbè allora una contraddizione ce l'è sicuro dobbiamo solo trovarla cioè perché qua non già sono due cose che non tornano il fatto che il fatto dell'ombrello e il fatto che lei dice che non l'ha spinto linguine al pesto esatto nel dubbio tu pigeresti tutto sono d'accordo io infatti in questi giochi qua la prima cosa che faccio quando ci sono i processi è incalzare su tutto al massimo fai un po' incalzare il giudice però ecco mi pare che c'era un episodio che se incalzavi troppo ti ti penalizzava ho sbaglio il primo o anche quello precedente svolazzano anche negli stoci sensibili esatto eh pure le impronte certo sì ma vabbè non le consentono di molestare la testimone credo che la difesa stia tirando a indovinare vediamo che cosa ci dice di dimostrare voglio dire non ha presentato delle prove concrete non mi guardi così non sto facendo solo il mio lavoro signorina sulla giacca ah ok è tutto automatico ah vedi è automatico scusatemi io pensavo di dover indicare dove precisamente dovevo si doveva cercare la contraddizione ok no ce ne erano già due o tre di contraddizioni quindi era abbastanza sicuro che ci fosse nella nostra tradizione quindi a posto siamo andati troppo oltre stiamo overthinking esatto devi incalzare solo quando serve io non ho le gambe corte ciao progetto crema grazie davvero tantissimo del supporto dei bit e di essere passato soprattutto grazie alla prossima sempre a farci problemi tu clicca non lo sai perché ma tu clicca poi ci pensa lei giusto giusto c'è ragione è vero ci facciamo troppi problemi dobbiamo un po' anche fidarci dei personaggi del gioco abbiamo già dimostrato che il signor Wright ha spinto la vittima oh cosa non deve cercare di proteggerlo sarebbe molto meglio se si decidesse a raccontarci la verità ok non si preoccupi ci dica tutto ciò che ha visto quel giorno ok modificherò la mia deposizione non ho visto il momento esatto in cui ha spinto Doug ok come non l'ha visto beh ho visto il momento in cui Doug è caduto beh c'erano solo loro due sul luogo del diritto in quel preciso istante l'imputato e la vittima sì nessun altro non sembrava che stessero litigando e non ho sentito alcun rumore non ho sentito alcun rumore cosa stavano facendo secondo lei ho pensato che stessero conversando amabilmente tutto qui oh ma per favore ecco perché non li stavo osservando con troppa attenzione non ha notato nulla di strano no nulla mi piace signor giudice bene proceda pure con la sua testimonianza quindi sono andato a cercare altri studenti che poi hanno chiamato la polizia ok si riferisce agli studenti del dipartimento sì loro non fanno altro che parlare dei loro farmaci non cambi discorso quindi per trovare degli studenti di farmacologia si è diretta al laboratorio giusto? beh quella era la mia intenzione ma alla fine non è stato necessario un gruppo di circa dieci studenti è corso fuori dall'ingresso dell'edificio sembravano sapere cosa stesse succedendo what? gli studenti sapevano cosa stava succedendo? no eh no certo che chiedo come facevano a sapere cosa stava succedendo? certo che con mia non ci vorrei mai litigare tira certe manate a quel bancone esatto mamma mia mamma mia ma come facevano a sapere cosa stava succedendo? non ne sono sicura è solo che sembravano tutti agitati per qualcosa ok quindi sono stati loro a chiamare la polizia? sì io ero sotto ah quindi loro sono usciti però per un altro motivo no? cioè sono usciti per cavoli loro perché c'era qualcosa era successo qualcosa che li ha agitati e poi hanno scoperto che c'era quel il tizio per terra ero sotto shock beh lo credo comunque lo sarebbe stato chiunque lo sarebbe stato sa benissimo di aver detto una bugia grande come una casa sta facendo finta di proteggere le varieties deve essere così dai coraggio dovrò scavare a fondo per trovare una contraddizione vai contraddiciamolo questo non è niente di contestabile questo non è niente di contestabile non lo so beh aspetta non pensavo che stessero litigando non c'è sempre una famosa una sera sono Giorgio ma suolo è morto per una scossa elettrica e lei è sotto shock sotto shock ma che cacchio di pronuncia inglese hai Giorgio infatti non è non è chiara questa cosa comunque non c'era la testimonianza sempre di lui che diceva che invece stavano litigando e poi il rumore ah il rumore certo il rumore che ha sentito Felix eccolo il rumore questo ha detto di non aver sentito alcun rumore giusto sì ecco perché ero molto rilassato e mi portavo intorno serenamente mi fa piacere ma lo trovo un po' strano ho qui con me la deposizione del suo fidanzato e mi do ora informarla che ha dichiarato di aver sentito un rumore molto forte proprio quando ha spinto la vittima sotto shock chissà che puzza se era davvero così vicina a loro due perché non l'ha sentito anche lei già oh io ma forse non era un rumore così memorabile ma il signor Wright ha detto di aver sentito uno schiocco secco come uno snap è impossibile che la testimone non ricordi un rumore così distinto sotto calzini potrei rispondere? io so perché non ho sentito quel rumore vedi in realtà in quel momento stavo ascoltando della musica con gli auricolari auricolari quindi aveva entrambe le orecchie tappate? dovrei smettere di piovere ma sembrava che il dio Thor volesse divertirsi ancora un po' infatti il cielo continuava a rumoreggiare e ad aprirsi in grandi squarci ah tuoni e fulmini eh sì io ho paura dei tuoni quindi mi ero messo agli auricolari per non sentirli oddio non è che regga molto eh aspetta queste sue ultime parole ha detto qualcosa che potrebbe ribaltare l'intero caso i fulmini certo stavo ascoltando della musica oh mio dio ribalta il caso no certo i fulmini c'è un grosso problema in questa testimonianza non l'ha notato? la testimonia ha affermato che c'erano dei fulmini e allora beh i fulmini non sono altro che intense scariche di elettricità certo vabbè non è il momento di fare scienza ma dal momento che la vittima è morta folgorata forse è un po' importante questa cosa è possibile che il signor Swallow sia stato colpito proprio da un fulmine oh ah oh i guarda che è Zeus che fa piove devo ammettere che non ci avevo pensato ma che cacchio pensi allora dai farfalle l'intero caso boggia sul fatto che il signor Swallow è stato ucciso ma quanto pare la premessa fondamentale è sbagliata la difesa ritiene che il signor Swallow sia stato colpito da un fulmine la difesa non ha tutti i torti è possibile che la morte della vittima sia stata davvero occidentale ce l'hai fatta mia e ora sbrigati a formulare quel verdetto di non colpevolezza però aspetta intenzione un attimo potrebbe essere un modo elaborato per uccidere una persona quello di bisogna analizzare l'ombrello secondo me l'ombrello è importante ombrello di plastica però non lo so forse è stato manomesso non lo so mi sto inventando le cose secondo me non vorresti sapere a cosa penso in questa mia testa YouPorn al confronto sembra il sito delle edizioni Paoline ha una voce molto acuta esatto ok mi dispiace che lei abbia un'opinione così bassa di me signorina Fey non sono uno sciocco l'accusa ha svolto delle ricerche vostro onore abbiamo accertato che quel giorno non sono caduti fulmini sul luogo del delitto va bene ci può stare cosa inoltre abbiamo la prova che quel cavo elettrico è legato al caso di indiscussione una prova e quale sarebbe mi riferisco a questa testimonianza giurata e chi l'avrebbe scritto gli studenti di farmacologia che quel giorno conducevano esperimenti in laboratorio mi consenta di leggere ad alta voce la testimonianza degli studenti tutti i macchinari si sono spenti all'improvviso intorno alle 15 di quel giorno oh c'è stato un blackout tutti i macchinari vanno ad alta tensione quindi sta dicendo che i macchinari si sono spenti all'improvviso perché esatto si sono spenti a causa del cavo elettrico reciso lo spegnimento dei macchinari si è verificato intorno alle 15 corrisponde all'ora del decesso esatto in altre parole la vittima è morta nell'istante in cui ha toccato quel cavo reciso ok eh no no ha sentito lo snap della folgorazione quello è abbastanza sicuro eh danger danger high voltage gli studenti hanno affermato che i cavi sono molto vecchi tanto che è già in programma la loro totale sostituzione capisco a quanto pare il cavo era in condizioni così precarie che anche un leggero impatto lo avrebbe rotto ah attenzione questo è importante eh vai testimonianza degli studenti va bene comunque c'è ancora una cosa che non ho capito se davvero fosse bastato un leggero impatto per rompere quel cavo allora deve essere stato colpito da qualcosa beh direi di sì migliorina fai lei saprebbe dirmi cosa ha causato la rottura di quel cavo elettrico il processo ha preso una brutta piega devo inventarmi qualcosa per riprendere le redini del caso se la corte è d'accordo la difesa vorrebbe esprimere la propria opinione in merito ok sentiamo chi o cosa avrebbe causato la rottura del cavo what cosa cazzo chi o cosa l'ombrello no l'ombrello ce l'aveva in piedi magari cadendo forse l'ombrello cioè cadendo indietro ha diciamo ha colpito il cavo con l'ombrello che no non tiene molto oppure cioè semplicemente dobbiamo dire che dobbiamo dire che è stato lui nel senso che è stata la sua spinta però in questo modo non stiamo praticamente dicendo che è stata colpa sua secondo te è stata lei ho capito ma non possiamo accusare la gente così cioè come fai in base chiaramente alla situazione che abbiamo descritto fino adesso e alle testimonianze come facciamo a dire che è stata lei a causare la rottura del cavo a naso io direi o il signore in goia o l'ombrello il signore in goia chi è è phoenix no il signore in goia è coso è phoenix è swallo ah giusto swallo è lui stesso ma purello è morto lui no secondo me è un ombrello effettivamente cadendo ha reciso il cavo aspetta com'è la dinamica qui certo che però è abbastanza basso il cavo secondo me è stato è stato proprio è stata proprio la spinta secondo me esatto è stata proprio la spinta secondo me ma no è troppo è troppo basso il cavo per essere cioè per essersi impigliato in alto con l'ombrello secondo me è stato è stato proprio phoenix e poi in qualche modo si capirà come se effettivamente è un omicidio si capirà come cacchio ha fatto chi l'ha ideato a fargli stare lì in quel momento non lo so non lo so se invece è un incidente è un incidente però secondo me è questo vero madonna quanto mi quanto mi cago sotto ogni volta che mostro una prova che non sono proprio tanto sicuro vostro onore ripensi per un istante la deposizione di phoenix affermato di aver sentito un rumore molto forte dopo aver spinto la vittima eh esatto dopo ciò deve essere accaduto intorno alle 15 credo qui si quindi sta dicendo che i macchinari del laboratorio si sono spenti esattamente alle 14.55 quindi tutto torna ah ok la spinta ok ok la spinta attenzione la spinta era la cosa più semplice a volte il rasoglio di Ockham funziona eh no ma non vorrei che facendo i tentativi poi mi si abbassa quella barra famosa che poi se arriva a zero devi ricominciare tutto il caso insomma non mi pare ok esatto sì esatto l'accusa è raggiunta alla medesima conclusione infatti è stata quella stessa spinta a provocare la folgorazione vediamo che non sia così eh esatto anche quello non servi bene dove è caduta la vittima dopo essere stata spinta dal signor White vede l'ombrello è vicino al palo della luce la vittima è andata a sbattere contro il palo della luce in seguito alla spinta e l'impatto ha causato la rottura del cavo elettrico ah sì ok ecco come la vittima è rimasta folgorata no mi dispiace contraddirla ma non avrebbe alcun senso se la vittima fosse stata spinta contro quel palo lì in fondo non sarebbe rimasta folgorata visto che il cavo si trova qui in primo piano e beh certo in altre parole qualcuno ha folgorato il signor Swallow ma di sicuro non il mio cliente esatto si è tagliato il cavo in quel momento è rimasto a penzolare con le sue bellissime scintilline e poi in qualche modo questo poveraccio è finito a contatto col cavo è stato il rasoio di Ockham a tagliare il cavo eh esatto cioè questa cosa anche vorrei capire quanto è passato di tempo però a questo punto lo sappiamo perché sono passati tipo 5 minuti perché hanno detto che il blackout c'è stato alle 14.55 mentre l'ora del decesso ma perché sempre l'istintivo vado a finire è alle 15 quindi sono ecco quindi ora sappiamo anche la risposta quindi sono 5 minuti dalla spinta a quando mazza 5 minuti sono tanti sembravano di meno comunque i lamenti del nemico quanto tempo ha aspettato di sentirle è vero la difesa ha assolutamente ragione per l'imputato sarebbe stato impossibile ehm signor giudice potrei dire una cosa riguardo alla spiegazione della signora avvocato ha detto delle cose che sono un po' diverse da come le ricordo cosa? questa li sta manipolando proprio con le farfalline le chiedo un favore sì 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 no no è chiaro quello no no io intendevo dire che da come l'aveva raccontato Phoenix mi sembrava che lui avesse spinto il quel poveraccio fosse si fosse girato per avviarsi per andare via e poi fosse subito tornato indietro quindi mi sembrava una questione di secondi però evidentemente così non è è stata solo una mia interpretazione sbagliata perché evidentemente sono passati 5 minuti potrei testimoniare per l'ultima volta? eh sì ma tanto qua che ce frega qua cambiamo idea ogni 5 minuti che tribunale poco professionale comunque buonasera siamo gli inguini maschile del tribunale buonasera cari inguini vi vedo parecchio sbavanti stasera è innocente esatto ok a dire il vero Fini l'ha spinto due volte ah ok interessante la prima volta l'ha spinto contro il palo della luce facendo spezzare il cavo poi Dagi ha cercato in tutti i modi di fuggire ma Fini l'ha raggiunto più o meno su di lui da dietro ok adesso però siamo abbastanza sicuri che lei c'entri qualcosa perché sta proprio palesemente accusando Phoenix di aver fatto una cosa che non ha fatto si piange pure capito sta stronza Dagi ha urtato il cavo ed è morto fulgorato tutto questo in meno di un minuto ma scusami ma all'inizio lei non diceva no no ma sono innocenti tutti e due ora sta invece accusando lui inguini intelligenti molto meglio mia certo voglia dopo essere stato spinto Doug si è rialzato ha cercato di fuggire ed è stato allora che l'imputato l'ha rispinto scusa Fini ma io io devo dire la verità ah ok quindi adesso sta facendo la scena di quella che ha voltato faccia diciamo ma la sceneggiata che avrebbe fatto fino a quel momento va bene oh starò facendo la cosa giusta secondo lei signor giudice certo carissima spesso la verità è molto dolorosa bene controinterroghiamo ok Fini l'ha spinto due volte signorina Outorn nella sua precedente deposizione ha dichiarato a dire il vero non ho visto il momento esatto in cui ha spinto Dougie lo so mi dispiace volevo solo proteggere Fini allora è per questo che ha mentito alla corte mi sono comportata male lo so signor giudice sì potrebbe perdonarmi per favore io Cristo troppo facile lei ha fornito quella che chiamiamo una falsa testimonianza e mo non esageriamo ha solo detto una piccola piccola innocente bugia questa volta la perdoniamo ma d'ora in avanti faccia più attenzione mi raccomando oh la ringrazio di cuore signor giudice si figuri oh 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 è lui che dovrebbe fare più attenzione quella ragazza è molto molto pericolosa fatto almeno una sesta sì la prima volta l'ha spinto contro il palo della luce e la seconda eh no e poi ha spezzato il cavo quindi ha visto l'imputato spingere la vittima contro il palo anche se non sembra Fini diventa un vero diavoletto quando vuole in serio ma non avrei mai immaginato che quella spinta avrebbe fatto spezzare un cavo Fini fa davvero paura quando si arrabbia ha tutta l'aria di un ragazzo poco raccomandabile li sta manipolando proprio poi ha cercato in tutti i modi di fuggire mi faccia capire bene lei ascoltava tranquillamente la musica con gli auricolari mentre assisteva a tutto questo signorina fail devo chiedere di smettere di tormentare la testimone tranquillamente no ero così spaventata che non riuscivo neanche a muovermi una piccola innocente bugia per cui teoricamente potrebbe finire dentro per almeno un tot di mesi esatto ma vabbè sono un giudice burfallino e farò finta di niente come se come la falsa testimonianza esiste se solo nel mondo di Phoenix Wright no certo ero spaventato non ho potuto fare altro che restare lì a incitarli incitarli? che intende dire? beh mi auguravo il meglio per entrambi e che lottassero con tutte le loro forze molto gentile da parte sua e poi cos'è successo? Maffini l'ha raggiunto piumando su di lui da dietro questo non mi torna sono state trovate delle impronte digitali all'altezza del petto avete trovato delle impronte anche sul retro? Rain? beh no assolutamente signora Faye potrei consigliare di ascoltare con maggiore attenzione ho detto che è piumbato su di lui da dietro giusto? non che l'ha toccato con le mani in tal caso il mio Fini avrebbe lasciato impronte non crede? tipo l'ha spinto con la spalla con la spallata oh tra l'altro in meno di un minuto questa cosa non mi torna non erano cinque minuti? ora sono il signor giudice avvocato mia mi faccia capire meglio dove fossero le impronte sul petto esatto sul mio petto cioè mi faccia vedere sul mio petto un minuto? non erano cinque minuti? allora 14 e 55 mentre lui è morto alle 15 quindi cinque minuti sono passati non un minuto giusto? ah ecco aspetta c'era anche l'orologio ah ecco ecco è questo che devo mostrare l'orologio quindi si è fermato alle tre aspetta però sono un po' più delle tre perché sono un po' più delle tre? l'ora del decesso ma qua c'è ma è un errore della foto? l'ora del decesso dice alle 15 mentre l'orologio mostra alle tre boh e cinque cos'è qualche minuto dopo no comunque chiaramente ha maggior ragione se saranno passate le tre non poteva essere lo stesso comunque ha visto il preciso distante in cui la vettima è rimasta folgorata? non l'ho visto ho distolto lo sguardo è comprensibile nessuno avrebbe potuto supportare un simile spettacolo ok secondo me c'è qualche problema di tempistica in quel caso va bene però non sono sicuro cosa presentare allora posso presentare ha urtato il capo ed è morto folgorato tutto in un minuto ha urtato il capo e no aspetta però aspetta non è possibile ah si è possibile ok allora il fatto che lui abbia prima rotto il capo e poi essere stato folgorato viene praticamente dimostrato da questa cosa qui ovvero loro sono rimasti senza elettricità cinque minuti prima del decesso perché il cavo si è interrotto quindi da quel punto in poi non è arrivato corrente al dipartimento ma il cavo che chiaramente continuava ad essere carico e quindi dopo è stato folgorato quindi secondo me l'orologio può andar bene no questo l'orologio può andar bene non non combaciano i i tempi che fifa quando succede oh l'ho presa temo di non capire tra un minuto capirà tutto ah un minuto potrebbe osservare questa fotografia ok si è giusto mamma mia oh quel farmaco è quello che finisce a prendere sempre per il raffreddore ah non c'è niente con la deduzione che ho fatto io non è il farmaco che dovrebbe osservare ah ok pensavo pensavo che avevo toppato completamente la deduzione ed era un'altra cosa ah l'autopsia pure è vero però sì è vero è la stessa cosa ah tu dici che avrei potuto presentare anche questa sì è vero potrebbe potrebbe essere anche quello si è fermato all'ora esatta in cui la vittima è stata folgorata ovvero alle 15.05 dove vuole arrivare ok mi spiego subito a che ora i macchinari del laboratorio si sono spenti a causa del cavo ok questo è lo stesso ragionamento che ho fatto alle 14.55 eh si è accorto si è accorto anche lui signorina Dalia potrebbe spiegare alla corte cos'è successo durante quel piccolo buco di 10 minuti la difesa sostiene che è proprio in questo lasso di tempo che il vero omicida ha ucciso la vittima eh eh attenzione ma è assurdo ma è assurdo il vero omicida neanche lei può negare che il lasto di tempo tra il blackout e la forgolazione sia un vero e proprio buco di cui non sappiamo nulla allora chi è stato chi sarebbe il vero assassino vabbè chiaramente per forza lei eh mi sa che Pietro ce l'aveva preso dall'inizio non avresti potuto in questo gioco c'è una sola prova giusta ah anche se puoi dimostrare la stessa cosa con altre ah vedi ok però boh questa cosa io non la condivido ma va bene è una scelta di design signorina Dalia la dia lo stiamo pensando tutti in sala quando il mio cliente si è allontanato dal luogo dell'appuntamento il vero assassino ha avuto l'opportunità di agire liberamente signorina Faye la difesa è pronta indicare l'identità di questo vero omicida vabbè chiaramente lei finalmente questo è il momento che ho aspettato da tanto sì vostro onore la difesa è pronta se accusa la persona sbagliata dovrò penalizzarla rifletta attentamente prima di parlare signorina Faye vabbè non è che ci siano 800 persone che se stai lì a dire porca miseria chi può essere stato c'è solo lei il vero omicida non può essere che lei Dalia attenzione ha fatto una faccetta un po' preoccupata la difesa sta vaneggiando sono passati dieci minuti tra la rottura del cavo e il momento della folgorazione sa dirci cosa ha fatto in questo lasto di tempo signorina stava davvero ascoltando della musica incitandoli mentre litigavano non riesco a credere che lei non abbia alzato un dito per fermare i suoi spasimanti ispettore mister all things esatto dovevi fare l'avvocato saremmo tutti avvocati se fosse così semplice cosa anzi perché voglio dire signorina o torno quel giorno ha visto i due uomini litigare è vero tuttavia quando il signor Wright si è allontanato dopo aver spinto la vittima è stata lei a spingere il signor Swallow verso la morte verso una morte del territorio ricordati che Dalia e Mia si conoscono già e ricordati come Mia l'ha definita nella sua testa prima ancora che lei cominciasse a sbrodolare stupidaggini ah ok quindi ne vedremo delle belle quindi allora vi chiedo una cosa manca tanto o secondo voi possiamo finirlo entro breve perché sarebbe carino finire il primo caso nella prima puntata per carità però ecco visto che sono già alle 11 e mezzo io comincio a avere la voce che se ne va come può essere colpevole guarda quelle farfalline non dovrebbe mancare molto ok ok come può essere così cattiva io non ho fatto niente ok oddio abbiamo detto un attimo per la prima volta credo nella sua vita avrei una cosa da dire la prego faccia cancellare dal verbale del processo tutto ciò che ha detto la difesa eh ma che è impazzito si sta sbagliando dolly lei non potrebbe mai fare una cosa simile ah ok lui è tipo ingenuo innamorato che non si accorge di quello che succede torni subito a sedersi usciere lo prenda in custodia usciere lasciate stare la mia dolly ok quel giovanotto credo che gli abbia dato di volta il cervello il croftberg è tornato giusto in tempo a quanto pare ho trovato il rapporto della polizia sull'incidente di cui si parla nel tuo articolo volevo fare l'usciere esatto pensare esattamente a quello esattamente ciò di cui avevo bisogno leggilo con attenzione mi raccomando spiega come hai perso il tuo fidanzato ah la difesa ha formulato un'accusa molto grave cosa ha da dire al riguardo io potrei interromperla un attimo signor procuratore non si preoccupi ho tutto sotto controllo zan 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 volevo dire certo parli pure ignora fei mi sta davvero accusando di aver ucciso il mio caro dolce daghi si non solo sostengo che sia stata lei a ucciderlo ma l'accuso anche di aver cercato di incastrare phoenix il suo fidanzato sono diventate verdi le avevo detto che avrei dovuto occuparmene io nif mi scusi tanto vada avanti come può dire una cosa del genere io non fare mai del male al mio fini secondo lei avrei cercato di addossare la coppa su di lui non posso crederci tutto questo è troppo per il mio povero piccolo cuore credo che la ragazza ti stia chiedendo di indicare un movente otto mesi fa è accaduto un fatto molto grave e poi con lo stesso due giorni loro due si sono casualmente incontrati la tifessa richiede un'ulteriore testimonianza da parte di Dalia un'altra e su cosa sul giorno in cui ha incontrato per la prima volta l'imputato Phoenix Wright mi spiega cosa c'entra con il nostro caso la testimona ha detto che non avrebbe alcun motivo di incastrare l'imputato ma io posso dimostrare che in realtà lei ha un motivo più che valido molto bene la corte accoglie la richiesta signorina potrebbe ronarci della sua presenza ancora per un po' certo battaglia finale allora l'ho incontrato otto mesi fa destino che ci ha fatto incontrare quando i nostri sguardi si sono incrociati il mio cuore è sussultato da quel fatidico giorno siamo sempre usciti insieme alcuni trovano perfino fastidioso vederci così innamorati vabbè che cazzo le testimonianze va bene lo faccio di nuovo e lo farò arrestare per l'ottaggio della corte all'arremaggio allora l'ho incontrato per l'arrivo fino ad otto mesi fa non ce ne frega niente è come se il destino ci avesse fatto incontrare non ce ne frega niente però perché il destino aspetta perché il destino la sala lettura molto strano e neanche tanto romantico fini era fini non era solo uno studente di arte ma voleva anche divertare avvocato non sto parlando di lui mi riferisco a lei ignorina cosa ci faceva una studentessa di letteratura nella sala lettura di un tribunale è vero l'emorroide no credo che se ne sia andato fino adesso infatti l'aria è rimasta sola adesso che è tornato spero che ci tenga aggiornati sull'emorroide ok è una domanda del tutto rilevante non ha nulla a che fare con il nostro caso l'avverto e ciò non è pertinente con il delitto ok quando succede questa cosa vuol dire che devo continuare sicuro ormai lo conosco troppo bene questo gioco credo di poter dimostrare che la pertinenza di ciò che ho appena detto la pertinenza e chiedo di lasciare rispondere la testimone va bene perché si era recata nella sala lettura la mia risposta sarà semplice ero venuta in questo tribunale per fare delle ricerche su una tesi che stavo scrivendo ok che tesi mi scriveva relazione tra la poesia Sam Ryu moderna e il mondo criminale interessante sto invecchiando oppure ho obbliato l'aver scordato mio mio ancora con queste crisi di mezza età perché quella ragazza era venuta qui in tribunale non è questo che vuoi sapere e a proposito di dimenticarsi non hai dimenticato quel rapporto della polizia oh è vero è vero è vero il rapporto ho sudato un sacco per ottenerlo quindi leggilo ricorda che esatto che è la stessa cosa che mi ha appena detto ok aspetta leggiamo un attimo il rapporto no non era questo era questo guarda quello ah sì sì era il rapporto allora mensa del tribunale 27 agosto ore 16 Diego Armando maradona 28 anni professione calciatore iniziata indiziata ah attenzione era l'indiziata un'indiziata Armando ha ingerito del veleno mentre intervistava l'indiziata riguardo a un altro caso tracce di veleno trovate nella tazza di caffè della vittima nessuna traccia di veleno trovata nei paraggi o sull'indiziata no ti prego non mi dire che ma Pietro eri tu che avevi detto della cosa della catenina qua c'era qualcuno si eri tu per forza avevi detto che gliel'aveva data per un attimo perché era tipo una prova della sua colpevolezza e lo sai che era quello era quello c'era il veleno dentro esatto il mio cuore ha sussultato chi se ne fotte da quel fatidico giorno siamo sempre usciti insieme ok e certo cari tu sapevi già tutto prima ancora di saperlo quindi l'unico modo per screddare è trovare una contraddizione contraddizione ok contraddizione dopo qua ero venuta in questo riunione per fare delle ricerche no 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 non è vero non è vero che è che è venuta a fare delle ricerche ma proprio 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 no nope lei non era venuta qui per scrivere una tesi ma per un motivo un pochino un pochino più importante che cosa vuol dire quel sorrisino così avventato no com'era cos'è quel sorrisino sì otto mesi fa in questo stesso tribunale è venuta una tragedia l'avvenenamento intende il nome del principale sospettato citato in questo rapporto e questo nome è Dalia cosa Dalia sì la cocca dell'intero tribunale la signorina Dalia era la principale indiziata in un caso di omicidio otto mesi fa che sorriso esatto silenzio questo è inconcepibile allora è vero anche le rose le rose più belle nascondono delle spine signorina non è giusto non può calunniare la mia testimone tirando in ballo un caso non correlato io Winston Paine non glielo consento oh signor procuratore stavo parlando io oh mi scusi prosegua sì lo ammetto otto mesi fa la polizia aveva espresso un certo interesse nei miei confronti espresso un certo interesse signor giudice so di essere stato so di essere sotto giuramento quindi dirò la verità io non ho commesso il crimine avvenuto in questo tribunale otto mesi fa capisco sono riuscito a mettere in relazione due casi ora devo solo continuare ad attaccare ben fatto hai acceso un grande fuoco nel mio fondo schiena ah grazie mille delle che cazzo di brutta immagine comunque grazie degli aggiornamenti sulle tue morali forse quella parola non significa quello che pensi tu una storia fantastica esatto ok non so cosa sia più infiammato tra il mio animo o il mio anno va bene allora quel giorno avevo incontrato in mezzo l'avvocato che poi è stato avvelenato ok mi sono allontanata solo per qualche istante ed è stato allora che è successo da quel che ho sentito si trattava di un veleno liquido letale anche a basso dosaggio inoltre mi pare che fosse un tipo di veleno molto speciale ecco perché sono innocente non avrei mai potuto ottenere un veleno come quello ok in quale parola cacca quindi questo è quello che è successo otto mesi fa come ha affermato la testimonia lei è del tutto innocente credo che la difesa non sappia più che pesci pigliare mi dispiace deluderla signor Payne ma la difesa ha ancora molti assi nella manica da giocare e farò in modo di mostrarli tutti prima della fine del conto interrogatorio ok perché all'improvviso la difesa ha preso lo coraggio oh mia ora parli come un vero avvocato quella posa orgogliosa quella sicurezza di sé assolutamente straordinario mi stai stuzzicando le mie emorroidi ok quindi mi avevo detto emorroidi che sguardo sicuro vedi c'è Pietro che ogni tanto diciamo che sguardo sicuro che sorriso sicuro parli come una vera emorroidi allora avevo incontrato in mezzo l'avvocato ok e di che ha parlato sono cose private l'avvocato però le stava interrogando su un altro caso sì l'avvocato che poi è stato ucciso ha detto che voleva parlare di un incidente in cui rimasi coinvolta da giovane che incidente non c'entra nulla con il caso in discussione emorroidi sicure questo non c'entra ok obiezione accolta va bene che la domanda della difesa venga rimossa va bene comunque è rimasta convolta in molti incidenti comunque forse non sono nata sotto una buona stella non temere Dolly ti proteggerò io questo sì che è vero amore certo oh figlio ti prego i due mi fanno venire il volta stomaco anche se per ragioni diverse mi sono allontanata per qualche istante per quanto già ho risposto 8 mesi fa ma comunque 10 o 20 minuti e dove è andata? in bagno cosa sta insinuando? in bagno la mia Dolly è così perfetta che non va mai in bagno certo caghiamo fiori qui ho sentito l'ho sentito l'imputato signorina Fede la tesi buona è perfetta oh figlio ti prego la polizia ha già condotto delle indagini comunque stiamo solo sprecando tempo ok traghiamo fiori qui esatto la versione delle affermazioni su mia rivolte verso Glasgow ah ok da quel cosa ho sentito si trattava di un veleno liquido boh io incalzo tutto che me frega abbasso l'osaggio tipo due cucchiaini vediamo le mie cucci per gli occhi contengono 15 ml di liquido ovvero tre cucchiaini abbiamo capito che si tratta di una quantità molto piccola il veleno è stato trovato nella tazza di caffè della vittima deve essere successo proprio quando mi sono allontanato dal tavolo guarda un po' qualcuno deve averlo messo nella tazza mi pare che fosse un tipo di veleno molto speciale come sarebbe a dire? beh ho sentito che è quasi impossibile da rilevare e dove si potrebbe recuperare una sostanza del genere? tutto quello che so è quello che mi è stato detto dagli agenti mi pare che parlassero di processi chimici avanzati per ottenere quel veleno addirittura notevole davvero notevole sì in realtà dovremmo chiederci come ha fatto l'assassino ad ottenere un veleno simile esatto la tazza del caffè non quella del cesso visto che si parla di cagare e anche di monroidi ecco perché sono innocente dove avrei mai potuto ottenere un veleno come quello? scusa ma lei non è tipo studente di farmacologia? tipo per esempio no? mi sembrava è per questo che non l'hanno arrestata? perché nessuno è riuscito a stabilire come avrebbe potuto ottenere il veleno? mi sembra una ragione più che valida signorina non era tipo sull'intesta di farmacologia? chi è? chi è? chi è farmacologo? è la suolo ah quindi ecco perché stava con lui stava con lui perché lui aveva accesso ai farmaci faceva tutte le cosine chimiche ah perfetto esatto comunque credo che tutti ne abbia una passata domanda della signorina dunque se ho capito bene non è stata incriminata per quel delitto perché nessuno è riuscito a scoprire dove avrebbe potuto procurarsi quel veleno e va bene ora ragionando abbiamo capito cosa fare eccolo studente di farmacologia madonna mia non avrebbe mai saputo come ottenere quel veleno io non le credo infatti poteva accadere facilmente a quel tipo di sostanze dico bene accedere che accadere dei dars buonanotte accedere nel laboratorio del suo fidanzato si riferisce alla vittima precisamente fino a otto mesi fa la signorina Auton usciva con Doug e se ricorda bene il signor Suolo era uno studente di farmacologia quel laboratorio contiene macchinari molto avanzati senza i quali l'assassino non avrebbe mai potuto ottenere un veleno così raro e speciale allora signorina Auton finalmente abbiamo capito come l'ho ottenuto poi si è trattato solo di metterlo nel caffè della vittima quando era distratta l'unica persona che avrebbe potuto farlo era quella seduta al suo stesso tavolo ovvero lei oh no silenzio come può essere queste non sono altro che assurde la potrei dirle una cosa parli la quantità di veleno nel caffè montava due cucchiani scarsi giusto per trasportarlo sarebbe servito una specie di contenitore presumo certo è vero sono state presquisita sono stata perquisita subito dopo quell'incidente verissimo la polizia ha postato l'ansietà vabbè questo ormai l'abbiamo scoperto nel momento in cui abbiamo iniziato a giocare grazie a Pietro senza trovare alcun tipo di contenitore ha ragione è anche scritto nel rapporto si sarebbe potuta sbarazzare facilmente di un oggetto così piccolo le ricordo che questa è un'aula di tribunale se mi sta accusando di aver gettato via il contenitore del veleno credo proprio che debba postarmi una prova una prova ma in realtà ce l'abbiamo oh l'urco grazie grazie mille tanto guarda abbiamo quasi finito il caso e poi vado a letto fornisca qualche prova la polizia per cui si totalia l'intero tribunales senza trovare il contenitore ahia ecco la barra maledetta ahia ci provo lei doveva sbarazzarsi più presto di quel contenitore vero ecco perché lo ha affidato ad una persona non legata al caso a qualcuno che non sarebbe mai stato perquisito e chi sarebbe phoenix dai sei uno spoiler vivente esatto lo strembunale sto meditando di tornare per il tour dei karate il tour dei karate cos'è quindi l'imputato era il complice della testimone cioè fai un tour un tour beh tu fai karate e quindi c'hai un tour il tour dei karate oppure un tipo una band niente affatto lei gli ha consegnato il contenitore del vereno spacciandolo per un regalo ma ma quello è una collana davvero carina e quella è una boccetta niente male come regalo ma ancora non capisco può spiegarsi meglio signorina fai il giorno del colpo di fulmine tra il signor Wright e la testimonia risale a otto mesi fa al 27 agosto per l'esattezza lo stesso giorno di quel caso di avverenamento con la scusa di dimostrare il proprio amore la testimonia fece un regalo al mio cliente solo per nascondere la prova che l'avrebbe smascherata a una band perfetto jazz indie rock degli anni 90 wow bello sta dicendo che qui dentro c'è del veleno letale no quella boccetta non contiene veleno non più tuttavia sono sicuro che in un'analisi della scientifica rivelerebbe delle tracce di veleno oh no silenzio silenzio per conto di Dolly io mi oppongo signor Wright cerchi di calmarsi io le impedirò di parlare in questo modo signor Wright pensavo di averle detto di restare al suo posto signor Wright perché perché è disposto a tutto pur di proteggerla perché perché sono follemente innamorato di lei follemente innamorato un'espressione che non sentivo da tanto troppo tempo è Alican Phoenix Phoenix signor Wright davvero non ci ha mai pensato perché una ragazza come Dalia vorrebbe stare con uno come lei ma purello adesso beh forse perché anche lei è follemente innamorata di me Wright ti prego apri gli occhi a questo punto credo che cinque cinque me raccomando cinque chiunque l'abbia capito in realtà Dalia esce con lei per impedirle di parlare o per quella collana chiaramente perché è un cretino non era e non è follemente innamorata di lei l'unica cosa che vuole è quella boccetta che ha dovrà portare intorno al colpo al collo collo poco fa nella sala imputati mi ha detto ride un sacchissimo perché è un cretino esatto in cinque l'hanno capito sembra il principio di indeterminazione sai chi sta parlando cosa sta dicendo o una o l'altra cosa esatto sì ma è una ragazza molto timida ogni volta che la vedo mi dice sempre la stessa cosa ridammela subito ah tu da qui l'hai capito Pietro che strana ragazza va bene è il boccino ora parte il minigame gioco di bocce dannato Heisenberg per Dalia quella collana è la prova definitiva del suo crimine ecco perché la voleva assolutamente indietro sta mentendo ma lei non ha mai voluto restituirla e come se non bastasse l'ha sempre esibita come una sorta di trofeo ecco perché lei io non non le credo oh no è una bugia piange bla 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 mia stai bene l'imputato sta fuggendo uscire uscire presto X alla Monkey Island mamma mia stai bene hai capito tutto senza capire niente ho pensato che sembrava la boccetta contenente veleno e perché dare subito una cosa del genere in un tribunale per certo per nascondere una prova quel giovanotto è completamente impazzito dov'è il signor Wright pare che l'usciere l'abbia raggiunto quindi sarà subito riportato qui oh grazie al cielo oh no la collana con la boccetta il regalo è scomparsa cosa ma è terribile il signor Wright deve averla presa quando mi è venuto addosso razza di stupido quella era l'unica cosa che avrebbe potuto salvarlo è troppo innamorato e adesso che facciamo voleva fare la ballerina invece uscire signor Wright questo genere di comportamento non ha precedenti nel mio tribunale mi scusi non l'ho ribeccato temo che le sue scuse non siano sufficienti signor Wright dove hai messo la boccetta mi perdoni io scusate mi dispiace ma tutto bene mi dia quella collana l'ho mangiata cosa l'ha mangiata era troppo grande da inghiottire quindi l'ho rotta e l'ho mangiato i frammenti sì certo ma che cazzo dici ma che dici buonasera sono Giorgio voglio essere come Billy Ball Billy Ball voglio essere come Billy Ball mitico Billy Ball doveva interrompere subito l'udienza signor Wright si sente bene le fa male lo stomaco la boccetta che ha ingerito poteva ancora contenere delle tracce di vereno sembra che l'imputato abbia provato la tesi dell'accusa sebbene involontariamente è evidente che quella boccetta non conteneva alcun veleno ma davvero l'ha inghiottita ma che vuol dire che inghiotte le schegge di vetro ma che è stupido come può essere sicuro beh mi sembra ovvio come può vedere l'imputato è ancora vivo e vegeto si vabbè ma non basta come dose e per quanto riguarda il veleno la solita fantasia di voi avvocati difensori va bene ma deve esserci un errore forse nella boccetta non erano rimaste tracce di vereno a sufficienza direi io oppure il veleno aveva perso l'efficacia oh non si scaldi tanto cara fidarsi del proprio cliente è un gesto più nobile che un avvocato possa compiere buonasera sono Rupert Chamillian e Billy Balloleo è un coglione fantastico è tutta la sera che mi dite che è cretino infatti infatti è cretino ci hai avuto proprio la dimostrazione e la fiducia che lei ha riposto nel signor Wright è davvero ammirevole e lo stesso vale per noi procuratori per esempio io offiderei alla signorina Hawthorne la mia stessa vita complimenti ecco perché sostendo con forza che se sia fatta un'opinione errata su di lei basta purtroppo signorina Faye non posso accettare la sua ricostruzione degli eventi ma perché? forse un giovane avvocato come lei non può rendersene ancora conto ma in un'aula di tribunale le prove sono tutto uno che si veste così non puoi di definirlo in un altro modo è vero ciao buon proseguimento di lurk buona serata buonanotte buon weekend grazie ancora di tutto dopo tutta la fatica che ho fatto Dalia se la caverà anche stavolta? bene ora che la signorina Hawthorne è stata sollevata da ogni sospetto vorrei proseguire con il processo signor signor Wright mi dispiace signorina Faye me ne ero completamente dimenticato mi dispiace immensamente so che lei credeva in me e sento di averla delusa signor Wright cosa stai cercando di dire? eh c'è una cosa che ho scordato di dirle oh quel giorno il giorno che ho incontrato Doug dagli se la caverà anche stavolta eh sì è vero l'ho notato c'è una cosa che dovresti sapere su di lei qualcuno ha rubato del veleno dal nostro laboratorio attenzione quindi lei aveva confessato questa cosa veleno otto mesi fa era successa la stessa cosa qualcuno aveva rubato una sostanza speciale e quel giorno lei era entrata nel laboratorio sono sicuro che è stata lei quella ragazza non ladra smettila non azzardarti a parlare di lei in questo modo ok è la verità? le ha detto davvero questo? ma è ridicolo ci sarebbe un'altra cosa quel giorno dopo averlo spinto ho iniziato a preoccuparmi e sono tornato indietro ai 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 lei era proprio lì Dolly era lì era chinata accanto a lui cosa? ma avete proprio messo delle cose proprio leggerissime mi ha detto di non dirle a nessuno ma perdonami Dolly va bene altro che Franciscio io so che so se sono colpevoli ancora prima di vederli questo è l'imputato è signorina fake glielo dica Dolly non ha fatto nulla lei è innocente quindi Dali ha rubato l'altro veleno oltre a quello di otto mesi fa e tenendo in considerazione la testimonianza di Wright la conclusione non può che essere una sola la difesa ritiene che la signorina Dali abbia rubato del veleno la sera prima del delitto di Doug la sera prima certo ha rubato del veleno per uccidere qualcuno signorina fake si è così convinta della sua teoria risponde alla mia domanda ultima occasione c'era qualcosa che voleva recuperare tutti i costi quindi ci dica chi la signorina Dali aveva intenzione di uccidere beh cioè se non è se è ammazzato lui avrà avrà voluto ammazzare anche Phoenix alla fine cioè è l'unico è l'unico modo non c'è nessun altro è l'unica persona che ostacolare i piani hai capito sta stronza io tutto questo è assurdo dopo tutto è stato ucciso Doug non certo l'imputato beh alla fine le cose sono andate così è vero ma le ricordo che il signor Suolo è morto folgorato non avvelenato la persona che la signorina Autorn aveva intenzione di avvelenare era proprio Phoenix ma poverino ma che se lo sa hai visto la verità se uno ha la faccia malvagia per te è subito colpevole sì è vero ok come può essere? pensavo che il signor Wright e la testimone si amassero povero Wright deve essere un brutto colpo per lui resisti presto quella arpia la pagherà cara promesso come ho detto prima l'unica cosa che importava veramente la testimone era la prova che le avrebbe legata indissolubilmente all'incidente di otto mesi fa la collana le importava solo quello e allora perché sarebbe perfino arrivata a ucciderlo otto mesi fa appena dopo la morte di quell'avvocato Dalia aveva in mente solo una cosa come sbarazzarsi di quella collana non ci credo e alla fine il suo piano ha funzionato la prova è scomparsa per lungo tempo ma c'era solo un unico grosso problema il signor Wright si rifiutava ostinatamente di restituire la prova che aveva indricevuto perché per lui quella boccetta era un tesoro al punto che la mostrava sempre a tutti eh eh in effetti intende dire che è per questo che voleva ucciderlo certo solo per recuperare quella prova ahiaiai non ci credo quindi sei proprio un idiota una donna non potrebbe mai fidarsi di uno come te e ho ripetuto più e più volte di non dire a nessuno di me e della collana mi fai ribrezzo ignorina pare che questo processo sia giunto alla conclusione bene vedo che intende farmi passare per una criminale anche se sono innocente beh lei è una criminale questo lo vedremo per prima cosa dove sono le sue prove mi pare che il suo patetico cliente si sia mangiato la boccetta come snack beh ehi vecchio si è per caso rimbambito? perché non dice qualcosa invece di restarsene lì? imbambolato sono morte le farfalline signorina Otton cosa ne è successo? è davvero così sorpreso? forse mi preferisce così signor giudice sono tornate oddio e fa tornare a comando senza una straccia di prova da testimone sono diventato una serial killer bene non ho nient'altro da dire ora me ne torno a casa se non vi dispiace non abbiamo ancora finito d'accordo allora chieda subito a quella vecchia strega di sbrigarsi no stavolta non mi sfuggirai fermati mia continuando a incalzare senza prove potresti subire la peggior punizione per un avvocato cioè? cioè rischia di perdere per sempre il suo distintivo oh no le consiglio di riflettere attentamente signorina molto attentamente sono andate a fuoco signorina fei possiede una prova che possa dimostrare la sua colpevolezza in modo definitivo ah what the fuck non si può distinguere giustamente non ho una prova così schiacciante al momento tuttavia preferisco perdere il mio distintivo piuttosto che fargliela passare liscia ok quindi ci dobbiamo inventare una strada alternativa vorrei presentare una prova ok boh la storia di stupida la corte ritiene che questa discussione si sia protratta fin troppo a luogo di conseguenza mi aspetto che presenti una prova decisiva decisiva se non riuscirà nel suo intento sarò costretto a emettere un verdetto molto severo ho capito immagino già i titoli sulle prime pagine dei giornali giovane avvocato che punta alle stelle precipita ignobilmente alle stalle aveva intenzione di avvelenare Bright quindi il veleno deve essere per forza lì dentro eh lì dentro dove? provi in modo inequivocabile che la signorina Autorn voleva avvelenare l'avvocato ok io non vi leggo ovviamente perché sennò voi starete facendo tutte le posi del mondo e vorrei fare le mie prima di tutto allora lei ha detto lì dentro quindi è qualcosa dove nascondere un veleno vabbè le pasticche l'unica cosa è questa anche perché non ci abbiamo nient'altro cioè qui è proprio esclusione si fa no? cioè deve essere qualcosa che aveva Phoenix chiaramente oi oi nasconde il veleno dentro il distintivo mi sembra una cosa un po' troppo tanta scientifica eccola la prova che dimostrerà la colpevolezza della testimone una mazzara a freddore il farmaco lol ora vi leggo senza il distintivo mia è incazzata come una bicia con d'aglia il loro precedente incontro deve essere stato di poco esplosivo sì sì concordo questa frase è incredibilmente calzante con qualcosa che succederà più avanti senza il distintivo aia ce lo ce lo ce lo ce lo ce lo ce lo lo ritireranno ride l'ultima ride l'ultima uscita del nano Phoenix qui non è ancora un avvocato per ora ah certo no vabbè ma qui stiamo cinque anni prima poi spero che si tornerà dopo no? no? no vabbè non è che leggono il pensiero che sul serio era l'unica l'unica possibilità ok il nostro giovane avvocato ha preso il raffreddore anche se ce l'avessi di sicuro non userei questo farmaco infatti è stato avvelenato cosa? ripensi alla deposizione dell'imputato ma ho preso il flacone proprio quel giorno intorno all'ora di pranzo ho mangiato insieme a Dolly eravamo da soli è stata la signorina da Oton Oton a prendere quel flacone e poi l'ha avvelenato sapendo che il signor Wright l'avrebbe sicuramente usato non può parlare sul serio quel flacone è stato trovato in mano alla vittima chiedo alla corte di ripensare al delitto avvenuto in questo tribunale otto mesi fa ecco perché non mi tornava l'ora qual è ora? dicevo che l'ora in cui è sparito era metà ah l'ora in cui è sparito certo di cosa sta parlando? otto mesi fa il veleno era nascosto nella sua collana e lei se ne liberò consegnandola nelle mani di qualcun altro qualcuno che aveva incontrato va bene e ha agito allo stesso modo anche qualche giorno fa dopo aver rispinto la vittima il signor Wright ha lasciato il luogo del delitto e a quel punto è comparso l'assassino Dahlia aveva con sé quel flacone con il quale aveva intenzione di assassinare il signor Wright quindi questa per assassinare Wright è ammazzato buonasera sono Dahlia ho torne di professione faccio la maneggiatrice di veleno lo uso per lavarmi le mani esatto innaffiare le piante e condire l'insalata lo uso per tutte le cose anche per curare dei morrogli questa qua per ammazzare Phoenix ha ideato tutta questa cosa che comprendeva anche l'ammazzare sto poveraccio mi pare di ricordare che la testimonia avesse un appunto cioè li voleva uccidere entrambi in realtà oppure ha avuto intenzione solo di uccidere Phoenix no sì sì credo entrambi perché tra l'altro lui l'aveva pure vista che era uscita col veneno in mano esatto ha tolto di mezzo entrambi ok e aveva visto e sentito tutto ciò che era accaduto sul luogo del delitto chiaramente incluso la discussione tra la vittima e l'imputato e aveva notato il cavo in quel momento avrà pensato Doug deve morire esatto quindi ha utilizzato il cavo elettrico però inizialmente lei voleva uccidere solo Phoenix quindi ha utilizzato il cavo per farlo tacere per sempre purtroppo però sono iniziati i problemi perché il signor Wright è tornato improvvisamente indietro preoccupato per la vittima e insieme a lui gli studenti di farmacologia per via del blackout e a quel punto la signorina Votona era nel panico come lei stessa ha ammesso non dimentichiamo che aveva con sé quel flacone avvelenato quindi deve aver pensato e se mi prequisissero come otto mesi fa otto mesi fa? si si è sbarazzata nelle prove esattamente come aveva fatto otto mesi fa le ha date al cadavere chiaramente anche in teoria poteva essere problematico assolutamente sì e no e no e no e no e no no qui qui questo momento qui quando lei ha messo le pillole in mano a suolo lei già le aveva avvelenate le pillole altrimenti non non se ne sarebbe voluta sbarazzare no così quindi in realtà ha programmato di uccidere prima Phoenix e poi ha ha sfruttato il momento diciamo e ha diciamo insomma si è resa conto che alla fine sarebbe stato meglio uccidere anche l'altro il primo persaglio è la Wright esatto quello che stavo dicendo pazza che stronza comunque oh non siate ridicoli non crederete davvero a questo mucchio di scemenze quella stupida non è altro che una lurida disgustosa bugiarda vero signor procuratore ea riecco le farfalle si proprio così la signorina feia disperata beh allora facciamo analizzare le pillole mi chiedo chi sia più disperato tra noi due allora signorina auton riguardo a quel farmaco chi ne dice di prenderne un po' il signor Wright ha mangiato la sua collana giusto ora è il suo turno di provare la sua innocenza non le pare la mette così la sfida a mangiarla se sono una lurida e disgustosa bugiarda non ha nulla da temere avanti ce lo dimostri la sfida è inghiottire in una pastiglia di quel flacone ok una scoppia chiaramente mia fei ha la faccia dello sguardo assassino credi di avere vinto lo crede davvero mia fei ha la faccia dello sguardo assassino bene benissimo per il momento la vittoria è sua per il momento sappia però che io non dimentico mai ci rivedremo presto ne sono sicura ok ma stai andando in galera tipo per un bel po' di tempo tipo la faccia da sclero d'italia e non era proprio da sclero era anche abbastanza inquietante beware what you wish esatto e le farfalle sono andate a fuoco di nuovo va bene alla prossima signor giudice certo ora mi affiderò le cure merievoli di qualche bel ragazzone indivisa arrivederci no qui sarebbe stato carino se fossero arrivate le farfalle oh è finita sì questa obiezione io non posso accettarlo la difesa non ha mostrato la benché minima prova a sostegno di questa assurdità beh ma sembra che le testimonie abbia ammesso tutto ma non mi interessa io sono Winston Payne e non credo a una parola di quella dilettante eh sì ce la porteremo avanti un bel po' ok proprio di sì se è così lasci che le chieda una cosa signor Payne le dispiacerebbe inghiottire una pastiglia di quel flacone cosa poco fa mi pare proprio che abbia detto non si scaldi tanto cara per esempio io affiderò le signorine Autor nella mia stessa vita ah certo se davvero si fida così tanto allora di sicuro qui dentro non può esserci del veleno no eh beh oddio vede sì allora passi dalle parole ai fatti coraggio ammazza dilettante ci faccia vedere ci mostri quanto si fida di quella ragazza è davvero disposta ad affidare la sua stessa vita no beh per il momento è in prigione certo i miei bellissimi capelli comunque Dutch è appena stata riconosciuta col teore di omicidio la sua condanna è a morte ah giusto alla condanna era a morte ok sì sì beh certo adesso le faranno beh comunque si è diciamo costituita alla fine cioè ha ammesso dunque riguardo la signorina Dahlia sì provvederò subito al suo immediato arresto tutto ciò è molto tragico ma non mi sorprende avrevo capito fin da subito che c'era qualcosa di sospetto ma stai zitto ma stai zitto signorina signorina fai sì vostro onore prima ha detto di conoscere la signorina auton vostro onore sono questioni private che non c'entrano con questo caso molto bene signor pain non posso crederci è un incubo è come se avessi preso hai perso il controllo di me poi tra l'altro ha cambiato anche fisionomia perché gli sono caduti all'improvviso i capelli pare che il signor pain abbia perso la testa oltre i capelli l'imputato ha qualcos'altro da aggiungere non è possibile buonasera sono il giudice e sono un gran cazzaro che fa il figo posteriore esattamente molto bene sono pronto a formulare un verdetto e a porre fine a questo processo la corte richiara l'imputato phoenix wright la colpe vuole buonasera sono giorgio il signor giudice avevo subito capito che c'era qualcosa di sospetto giuro chiocciola ediotracone che non ci ho provato con Dalia è questo questo povero Giogio che vive nella paura di essere scoperto l'udienza è tolta ole è anche il primo caso e il primo caso ce lo siamo portati a casa sono quattro anche in questo caso o cinque sei stata favolosa grazie di tutto signor Grosberg al momento del verdetto le mie morroidi stavano per esplodere come un vulcano perfetto grazie della bellissima immagine signor Grosberg le dispiacerebbe evitare di parlarne? beh non vedo cosa ci sia di male comunque questo caso mi ha fatto riflettere molto cosa significa avere un rapporto di fiducia reciproca con il cliente? forse siamo proprio noi avvocati veterani ad averlo dimenticato povero Phoenix congaturazioni? grazie pensavo vado avanti la ragazza che ho visto lì sul banco dei testimoni non credo fosse la mia dolly dio santo cosa? sì la dolly che conosco non avrebbe mai detto quelle orribili cose cinque addirittura? sì sì anch'io Pietro sono molto interessato alle sue morroidi forse era non saprei forse era una specie di impostore poverino non vuole ancora accettare la realtà deve cercare di dimenticarla signor Wright lo faccia per il suo stesso bene ha ragione forse è la cosa più giusta da fare inoltre deve imparare a controllarsi cerchi di crescere un po' ho fatto un corso per diventare così coglione pensa di sì mi dicono sempre che tra tutti i miei amici sono quello più maturo meno male chi sa come sono gli altri esatto sto studiando per diventare un avvocato sì l'ho sentito ma non studiava arte all'università beh sì anche anche ma ho anche ma ho un amico che voglio assolutamente aiutare e se non e se mi sbrigo forse farò in tempo a salvarlo signorina fei il compito di un avvocato è aiutare le persone quando sono in difficoltà vero anch'io sono nuova del mestiere ma credo sia esattamente come dice lei ok allora mi darò da fare studierò come un matto diventerò un avvocato spero spero di rivederla un giorno eh certo è chiaro che sta parlando di aggiunta dai un cartone a questo esatto così si sono conosciuti perfetto questo è un interessantissimo flashback ero passati cinque anni da quando fui scagionato da ogni accusa diventai un avvocato e riuscii a salvare il mio amico come mi ero riprovesso ma mi è passata miglior vita pensare a quel processo riporta alla luce molti ricordi dolorosi ma anche emozioni indimenticabili nonché ricordi che pensavo di aver sepolto in fondo al cuore ora mia non c'è più anche se posso ancora sentirla accanto a me x abbi sempre fiducia nel tuo cliente in qualsiasi circostanza in un alo di tribunale la fiducia è l'arma più potente in assoluto anche se a darci non piacciono i formaggi anche quelli sono più buoni quando sono scagionati immagino di sì cinque lunghi anni e ora è accaduto qualcosa che mi ha fatto ricordare quelle sue sagge parole ma questa è un'altra storia oh che bello abbiamo fatto un episodio intero in una live che sguardo che è a mia tu stai proprio innamorato di mia sì che voglio salvare grazie vole direi che è perfetto per chiudere perfetto allora devo dire che mi è piaciuto parecchio questo episodio introduttivo perché era abbastanza semplice in generale diciamo che le scelte che c'erano anche a livello di prove eccetera erano molto limitate quindi alla fine quasi andavi per esclusione però è stato interessante perché è stato inserito nel contesto della loro storia e questo è sempre un bene nel senso che è sempre figo che il tutorial sia comunque qualcosa che ti interessa proprio a livello della storia quindi bello sta iniziando bene immagino che la vera ciccia ci sarà nei prossimi episodi quindi mi aspetto grandi difficoltà da questo gioco sicuramente io vi ringrazio tanto approfitto che ci siete tutti per dirvi che mercoledì uscirà la riedizione in versione deluxe con aggiunte alla trama e ad alcuni finali ad alcune cose da esplorare di The Stanley Parable visto che era uno di quei giochi che volevo fare con voi e nonostante io l'abbia già finito tempo fa quando è uscito e visto che l'hanno rifatto con grafica aggiornata e cose nuove quindi ci sono sicuramente delle cose che non ho che non ho mai fatto anch'io quindi insomma c'è qualcosa che che cioè c'è qualcosa da scoprire anche per me sarebbe carino farlo proprio nel giorno in cui uscirà esce proprio il 27 quindi questo era un antipastino bene l'unico episodio intero di sì ma immagino saranno super lunghissimi gli altri quindi mercoledì se vi va io ci sono poi se vi va mi fa molto piacere faremo The Stanley Parable che per chi non ha idea di cosa sia è una è un'avventura molto particolare di quelle che ci piacciono tanto su questa su questi teleschermi perché non vi dico niente però è molto particolare e c'è da da seguire insomma spero che ci sarete tutti allora io vi saluto vi do appuntamento quindi a mercoledì poi in caso comunque con con Felix White proseguiremo venerdì sicuramente e grazie a tutti per il supporto per i beat mi avete inondato di beat stasera grazie davvero per l'abbonamento regalato da Pietro grazie e passate un buon weekend fate i bravi dormite le vostre belle otto ore tranquilli mangiate le vostre belle verdure e campate a lungo spero di avervi distratto franciccio soprattutto e raccoon che insomma eravate diciamo i più i più bisognosi di essere distratti e buonanotte grazie ciao ciao ciao